dopo si censura lo sponsor di stasera è barbarona è barbarona ma in realtà barbacinato perché sta facendo lo stream nudo se noi vediamo tutto ci sarà un momento in cui toglierà lo sponsor barbarona per qualche secondo avrete l'occasione di vederlo danzare a cazzo fuori però dovete stare collegati tutto il tempo per riuscire a beccare il momento mentre fa l'elicottero ci sarà un frame esatto dove potrete vederlo fare l'elicottero lancerà il moonbeam dal cazzo e quando salterà i piedi sulla scrivania si lancerà pesce quindi questo è si trasformerà anche lo storione grandi momenti lo storione beluga comunque ciancio alle bande bando alle ciance mi mancava potrei fare anch'io potrei farlo io ero assoluto sto giro ma dai dai deliziaci potrei farlo io se siete tutti preparati a questo momento potrei farlo io credi c'è una condizione di lo faccio lo faccio se cosa non c'è ho messo bocca liscia dentro qua questa sera per pagare questo lo faccio io tanto è facile tanto ormai è il mini gioco fa il riassunto quando è facile la puntata scorsa che era numero 38 perché se questa è la 39 non mi inganna la matematica non inganna tanto prima di cominciare il riassunto vorrei fare un'elucubrazione personale è un po che non vediamo il generale io spero stia bene e lo salutiamo lo ringraziamo che possa seguire lo stream o generale generale e la guerra evidentemente non è finita comunque facciamo un passo avanti andiamo molto e la puntata scorsa è cominciata con noi arpio avvinghiati da esseri viscidi nella palude che volevano farci la pelle ma brillantemente abbiamo perso l'invisibilità e combattuto gli esseri viscidi arpionatori arpionatori ci siamo diretti in un imprecisato punto del villaggio di quel che rimaneva di berez in un imprecisato punto nota bene che avevamo un piano fino a quel momento lì e siamo stati svormati da streghe con capezzoli fuori potrete vederlo non ho inventato niente parte fate infasi sul capezzoli fuori comunque si vede un micro capezzolo a sinistra uno quello di sinistra per un picco secondo grandi momenti nel frattempo la narrativa si è spostata su zashin trasformato in quetzalcoatl stavo per dirlo ma grazie per essermi venuto in aiuto che svolazzava invisibile anche egli in un imprecisato punto del villaggio fammi la deposizione del quetzalcoatl che vola invisibile eccolo guarda questa è la versione invisibile in un imprecisato punto anche lui del villaggio bene si è posato su quella che pareva essere casa di baba lisaga che nel frattempo era uscita dopo averla cai tata fuori aprendo il recinto delle capre ordunque abbiamo proceduto zamo e zashin perdona ha proceduto a suottare codesta casa trovandoci la pensiamo sorella di jenny non lo sappiamo una vecchia svenuta e una specie di finto tesoro che ha provato prontamente ad aprire ed è stato colpito da una scarica giusto fulmine le mani fulmine tempesta poi anche sono uscite le fottute mani dalle pareti aspetta aspetta dopo di che è partito il treno di schiaffi nel senso che delle mani sono uscite hanno cercato di fargli la pelle ma zashin brillantemente ha sparato un fuoco un momento di napalm vario nella stanza e ha clearato tutto manco enter the dungeon quando prendi le armi quelle buone al che pensavamo che la minaccia fosse terminata invece la minaccia non era ancora partita perché la casa prende coscienza e comincia a cercare di liberarsi del dell'oppressore in questo caso zashin che scappa cercando di afferrare una gemma che non riesce a prendere prima trasformandosi in un orso e in seguito in un t-rex e va in fuga per la vittoria nel frattempo la storia continua con i nostri due eroi asserragliati dentro casa in un imprecisato punto del villaggio quando ecco apparire finalmente baba lisaga sul teschio volante ragazzi l'abbiamo già visto la volta scorso quindi si avvicina col teschio volante fa il rumore di come si avvicina pappa pappa avanti con la guerra psicologica l'ha detto sono abbastanza sicuro che l'ha detto al che oberon dopo un'ora e dodici intento fare un cazzo decide finalmente abbassati un attimo il mic mi abbasso il mic è l'enfasi è l'enfasi che c'è il momento c'è l'enfasi è l'enfasi e me lo abbasso dopo attenzione che c'è la diapositiva di oberon che aspetta che esatto si presenta momento finalmente dopo un ora e 14 minuti all'azione anche lui invisibile perché ovviamente se non abbiamo iniziato tutto il turno invisibile non siamo contenti che con una mossa repentina si trasforma in un t-rex anche lui e qui parte il giurassic swarm questo il mio segreto capitano lui è sempre un t-rex si trasforma in un t-rex nell'esatto momento in cui baba lisaga il suo teschio volante lo sorvolano e lui con abile mossa è neanche lei di oscar nella canzone dei gen boy riesce a buttare giù baba lisaga dal teschio e al che parte il treno di schiaffi a baba lisaga che non riesce a combinare quasi niente se non il finale con un guizzo d'orgoglio spara il finger of dead sul buon barbaro che ha dato tutto quel giorno lì quel combattimento li ha dato tutto ma alla fine è rimasto fingerato e non sappiamo al momento se si abbia ma mi ha fatto l'esame della prostata praticamente 66 adesso un guantone fino qua e poi boom finger of death il tutto si è concluso con zashin in forma di t-rex e una vecchia in braccio e un teschio in bocca e che al mercato mio padre comprò arriva anche lui in azione che fa balisa che l'abbiamo seccata pare che sia morta sono io quello in t-rex e ce la stiamo portando sul groppone anche lei pare che sia morta la casa ci sta ancora inseguendo la casa esatto non aprite quella porta e dopo c'è la casa c'è oberon trasformato ancora in tx in t-rex con le sue braccine con in mano il teschio con ingroppa me e il barbaro e zashin con l'ultima azione si trasforma in druido e cura il barbaro fine questo è quanto dopo dopo accentuati scambi di opinioni comunque il manuale dice che il danno necrotico è un danno come qualsiasi altro se non viene specificato nell'incantesimo quindi le cure erano possibili quindi la rivolta popolare ha ragione la rivolta popolare ha ragione comunque messo se stai guardando baffanculo perché non sta guardando ma lo riguarderà e poi raccontiamo non è che è un problema ma glielo scrivo anche subito bene se chi ci guarda gli vuole scrivere il numero di telefono sovraimpressione fallo brincare esatto ok allora si può passare di là in questa vivo per rivolto non so spiegarla parole onestamente più veloce di un mica a morire comunque quanto pare cioè perché no vabbè hai dato tutto l'ultimo giro i dadi non sono stati proprio dalla tua parte però bene passiamo qua ovviamente sotto siete tutti sopra quindi non sapevo come mettervi sì siamo in fuga per la vittoria quindi a questo punto però perché allora recappone quindi jack in questo momento a 22 punti ferita lo dici jack in questo momento a 12 punti ferita quindi sono cosciente no cioè ecco come no visibilmente irritato quando tutti svegli dopo una serata alcolica di quelle forti ecco una roba del genere che penso che abbia visto passare tutti i suoi i suoi antenati un t-rex con 28 hp va bene ah no erano i miei non sono i suoi lui è full hp vero lui è full hp quello è il mio top io ero arrestato con 28 hp col t-rex vorrei farlo ok ora che sono riuscito a mettervi tutti ora io prima di cominciare un'ultima cosa ma perché ci stiamo portando dietro il cadavere che non era morta era cioè non ha dato ricordo le parole di max era che sembrava aver perso i sensi no no detto che sembrava che non si è capito non è chiaro non è stato chiaro che sia morta quindi se non è morta le voglio spezzare il collo di persone infatti quindi è la baba l'isaga di shredding e anche detto che sta perdendo tipo sangue che morirà nei prossimi minuti se non succede niente esatto ha detto così esatto una roba del genere si che sta lì che tra poco ci lascia posso fargli un tiro di medicina ma no ma sei fuori ma non sto no che cazzo fai no per stabilizzarla ma come stabilizzarla magari ha il tomo della magia suprema e non sappiamo non sapremo mai dov'è perché il personaggio segreto qualcosa sarà dentro la casa esatto lo puoi sbloccare diventa tua alleata poi esatto ma dite quando entriamo quando iniziamo io sono già sul pezzo posso fare un tiro di medicina su baba l'isaga domanda no te lo impediamo no fai nessun tiro di medicina perché dovresti stabilizzare baba l'isaga mi sembra che attualmente sia nella bocca di espo o mi sbaglio esatto immagina di correre con un cadavere in bocca proprio bellissima la mamma non ti ha mai a correre con le forbici oberon ingoia quel cadavere in verità stiamo correndo per adesso l'unico mio pensiero è scappare dalla casa quanto a 80 120 120 secondo me tirano 80 mi sembra tantino quanta roba si sta portando mi pare che a 60 50 quindi 100 figa si sta descendo come un animale se desce a 100 quindi giusto e anche la casa pesce adesso per 15 aveva la casa al fatto per la casa non va così come anche il t-rex va per un edificio ok praticamente iniziate a muovervi molto velocemente per quanto possibile c'è un problema la zona davanti a voi è piena di alberi il t-rex è molto alto e deve muoversi un pochino più lentamente ovviamente avete visto l'acqua l'acqua non è un problema per gli alberi ma gli alberi possono essere un problema quindi con il t-rex mi potresti per favore fare un tiro di atleta vuoi puoi mettere anche la fascetta quella tergi su dove fai anche la musica di l'atletica con destrezza no è forza l'atletica no è forza tiro forza easy li butta giù gli alberi proprio riesci a passare senza troppa difficoltà la quitrinio e dove non riesci a passare con destrezza letteralmente sradichi gli alberelli fino a quando non ritorni praticamente nella parte iniziale della di berez si si volta dietro vede che la casa continua a seguirvi la distanza la stiamo distanziando e comunque c'è dove lo tenete la velocità non vi può raggiungere altra domanda la casa non viene rallentata da quello che ha rallentato anche noi avrebbe detto ancora più grosso di noi sta mettendo più o meno allo stesso tempo ho paura che ci sione e ci seguirà fino all'inferno ve lo dico in tutta onestà secondo me dobbiamo accertarsi innanzitutto che non che non sia anche non sia viva per perché babbalizaga non è ancora morto quindi dovremmo finire babbalizaga subito e capisciamola masticare direttamente dal dal punto oberon ingoia quella merda perché sento che è una pessima idea comunque va bene va bene e fatti sto spuntino ma che ma non ingoiarla mordila ma infatti si masticala prima che mi sparisce l'evocazione mentre la sto digestendo è tipo una babbalizaga non so se funziona così non credo funzioni così dai gli do una bella morsicata tipo la trancia a metà l'idea è quella ecco senti senti proprio il croc delle delle ossa e liquidi tra l'altro ora il t-rex non credo che abbia tutto questo non sia proprio schifiltoso ma no il sapore è abbastanza terribile va bene poi sputo punti tutto sputo i resti e non te sputi il cadavere tranciato a metà della della vecchia abbiamo definito cadavere posso fare un tiro di medicina sto schiazzando ok bene io mi volto e vedo se la casa smette di seguirci o è ancora animata cazzo ti dico io dobbiamo togliere no aspetta lascia il cadavere sul percorso magari si ferma dalla sua padrona andiamo avanti la cosa veloce tu sei l'unico che ha visto la gemma dentro se mente animato da quella però noi non lo sappiamo quindi sì sicuramente animato da quella gemma però ed io ve lo dico ho provato a prenderla ma in una posizione veramente difficile raggiungere all'interno dell'albero in una zona come dire scavata ed è profondo almeno due metri ed è in quella posizione centrale sospeso nel nulla due metri profondità e non sono riuscito a prenderlo e se provi ad entrare nella casa i tentacoli ti attaccano e hanno un danno sono veramente pericolosissimi non riesco a capire come possiamo affrontarla avrà sicuramente un punto debole però deve avere un punto debole se è un albero se gli diamo fuoco sì ma l'unico che spara cose di fuoco è quello che ci sta trasportando in questo momento esattamente neanche avessimo una bomba che potremmo infilare l'idea la bomba che non mi è voluto darebbe la volevo buttare sulle capre allora ci ho pensato anch'io il problema che ci devo entrare in casa per metterci la bomba facciamolo rip formazione come a quanto la metamorfosi un'ora un'ora è a voglia avrai altri almeno allora allora questo è il piano affiancala allora sentite se vi va il mio piano e poi e poi ditemi ci cerchiamo di allontanare prendere un altro po di distanza e prendere copertura in una zona boschiva diciamo oberon toglie la sua forma di la sua forma di t-rex e io do e vi io vi nascondo con passare senza traccia dopodiché aspettiamo il passaggio di quella casa che vi assicuro è grossa e pericolosa ma non è molto intelligente non riusciva a trovarmi ed ero sotto di lei non ha un'intelligenza molto spiccata possiamo siamo aggirarla facilmente e una volta che si sarà avvicinata e no e non ci vede proviamo l'attacco furtivo per cercare di recuperare la pietra lì sarà lì sarà un all in sarebbe da nascondere comunque il teschio da qualche parte è il teschio nella nella zona boschiva da qualche parte ma comunque oppure lo potremmo usare come esca per far attirare ma io non penso che gli importi tanto infatti anche secondo me uccidere noi anche secondo me non ci non gli interessa credo che stia eseguendo se non ho capito male l'ultimo l'ultimo comando di baba lisa potrebbe essere svegliarla e fagli dire di mettere di attaccarlo avrebbe mai fra prima di mangiarci allora mai fa però va bene il tiro di medicina sulla casa cosa dite no mi allineo il tuo piano ok quindi non posso parlare quindi l'idea è nasconderci tornare in far tornare oberon in in forma umana zammu tira pass without trace questo è per per salutare immagino no per per jaga eh sì ok è anche questa per jaga mentre ci stiamo spostando continuate ad andare per un po' fino a quando arrivate in una zona ancora un po' pozzuzzetta ma più tranquilla riuscite a girare un angolo cioè dove ci sono più alberi e fermarvi posare posare l'espo vi posa e siete relativamente nascosti insomma va bene tolgo il t-rex appena lo fa io casto pass without trace su tutti quanti ok ora zashin immagino che dobbiamo arrampicarci sulla casa sì la pietra è all'interno una volta saliti dentro la camera la la stanza al centro della stanza c'è un'apertura profonda due metri e sul fondo di quell'apertura sospeso c'è un cristallo c'è il cristallo ma non dobbiamo distruggere il cristallo dobbiamo recuperarlo non dobbiamo distruggerlo immagino se una delle gemme del vino esatto quello raggiungiamo dentro dentro quell'apertura scaliamo la casa appena entriamo nella casa reagirà con dei colpi di tentacoli dalla violenza disarmante io magari riusciamo a entrarci oberon oberon ma tu hai ancora a disposizione magari non so una delle tue palle di fuoco sì ma cosa faccio la lancio se la lancio saprà dove siamo no zashin ascoltami magari riusciamo a entrare senza farci vedere il fatto è che se entriamo io ho paura che moriamo non riusciamo a resistere ai suoi colpi e una volta dentro come recuperiamo quella pietra voi avete un'idea di come recuperarla l'esplosione se vogliamo entrare è per mettere l'esplosivo quello sì e la gemma a quel punto conviene distruggere la gemma direttamente e rischiamo che si distrugga la gemma con l'esplosione beh non sappiamo di cosa è fatta sì ma dai un'esplosione e non lo so beh è in un luogo profondo sotto due metri se mettiamo la bomba in una determinata posizione potrebbe anche salvarsi secondo me ho una idea di quanto sia potente posso provare a tirarla fuori facendo vedere con la lancia allora questa è l'idea l'idea la mia idea è questa bomba si entra si piazza la bomba e si innesca e si esce il più velocemente possibile nel momento in cui si esce Oberon che è posizionato in distanza scaglia tutto quello che può scagliare sulla casa in termini di fuoco tra l'esplosione e le fiamme secondo me dovrebbe subire un bel po' di danni io non ho posso mettere in sicurezza la pietra ma devo entrare nella casa e se dentro è troppo pericoloso per te entrare in quella casa Oberon un colpo e sei all'altro mondo ti perdiamo per sempre ma essendo alimentata dalla pietra non è che una volta presa la pietra è quello che pensavo finisce tutto esatto sì una volta presa dislocata la pietra dall'interno allora o la facciamo saltare o recuperiamo la pietra per causa della bomba allora cerchiamo di prendere la pietra al volo entrando ok allora come ditemi come possiamo prenderla una volta entrati dentro perché io ci ho provato anche in forma di orso che aveva una zampa di due io ho una lancia posso fare leva all'interno del buco quanto è largo non ci passa una persona beh però ci passa il braccio dell'orso se infilo la lancia sì ci passa una lancia sì però se una forza che la tiene lì una forza allora non ce l'avresti fatta neanche con l'orso eh non lo so non lo so ero lì e tra gli scossoni della casa e i tentacoli non sono neanche riuscito non ho neanche avuto il tempo di provare ad afferrarla quella pietra sentite intanto il il tremore si avvicina a qualcosa che sta sradicando gli alberi al suo passaggio ma Zashin dice che è fattibile entrare senza farci vedere o avverte la nostra presenza una volta che sei una volta che sei dentro avverte la ovviamente sente che se lì è viva si accorge che c'è qualcuno dentro si purtroppo si è facile da cioè nel senso se restiamo qui nascosti non ci non ci troverà sicuramente però nel momento in cui agiamo è letale quindi ok ma e se riusciamo a far perdere le nostre tracce e ritornare per la casa cioè sì possiamo fare anche questo però non abbiamo risolto il problema cioè non abbiamo trovato una soluzione abbiamo più tempo per pensarci e come ci portiamo via il teschio adesso se non ci trova per adesso facciamo possiamo anche riposare qua Zashin ho visto passarmi davanti tutto tutto quanto con quel colpo vorrei riuscire a riprendere un po' le forze hai ragione sono l'ultimo sono l'ultimo lo sai benissimo che si tira indietro per le cose ma se è così letale come dici ho cercato di curarti ma non credo abbassino le cure che ti ho dato per sopravvivere neanche a un tentacolo sono ancora parecchio ferito sai benissimo che posso resistere al dolore ma non so quant'è questo dolore se sono in forze posso buttarmi dentro e provare a prendere tutto quello che ha da lanciarmi la casa mentre voi cercate di prendere la gemma in fretta e fuori cioè per farvi capire francamente un t-rex io in forma di t-rex sono restato quasi ucciso dalla potenza di quella casa sono scappato in fin di vita per tre colpi dei suoi rami quindi e questo ha il suo livello di potenza se se Obenon mi mette mi rende veloce come fa ogni tanto posso schivare qualche colpo riuscire a prenderlo in pieno posso provare a bloccarla l'idea è che viene fatto tutto velocemente io entro prendo le sberle che mi devono arrivare e voi fate prendete la gemma in qualche maniera beh cerchiamo di restare allora nascosti e cerchiamo di guadagnare tempo e recuperare le forze per ritornare qui in un secondo momento è praticamente vicinissima adesso proprio tremare l'acqua che si alza fatemi un tiro di stealth a tutti col più dieci venti più dieci sì poi venti allora là che roba la casa si fermò un attimo come se taggiasse il terreno sentite proprio il legno che si contrae un po' stride e poi riparte nella direzione in cui stavate andando dopo pochi secondi è già lontano beh sarebbe interessante capire adesso cosa farà esatto a questo non abbiamo pensato beh è dovuto che arrivi arrivi in città e cominci a fare a causare massacri no anche perché è parecchio lontano no ma poi come la ritroviamo sta andando in direzione tipo di Jenny sì nel senso che la direzione è quella è qua ecco a tal proposito forse Jenny potrebbe darci un posto dove riposare tipo sai quell'albero che crea cose la butto lì Jenny è tipo qua ma la vedrà arrivare almeno dove l'avevate lasciata la vedrà arrivare la cazzo di casa si spera e tanto ci abbiamo qua anche la sorella giusto infatti ok allora consegniamo prima la sorella a Jenny così gli chiediamo anche un paio di consigli magari lei può può darci dei consigli oggettivamente dopodiché studiamo un piano una volta belli riposati su come recuperare la gemma dentro quella casa ci sarà una maniera per distrarla o sperando che quella casa la ritroviamo perdere una casa mi sembra difficile beh Zashin oggettivamente è una casa enorme non credo che si allontanerà e poi immagino che non so come funzioni e fu così che la troviamo a Vallacchi penso che non riuscendo a trovare il suo obiettivo tornerà al posto originale immagino o continuerà a girare qui vediamo cosa fa aspettiamo che si allontani ok ok ma come fai a vederla è scomparso all'orizzonte seguiamo Jenny in maniera furtiva andiamo da Jenny prima che vedete sulla strada pantanata in maniera furtiva all'inizio dell'all'inizio della foresta reinsecchita da cui siete arrivati e non ha fatto una grinza Jenny è lì le braccia col certe si ma il teschio il teschio è lì se non ve lo provate a portare dietro e appunto quello noi ci stiamo muovendo ma il teschio riusciamo a portarlo dietro quanto è grosso quanto è pesante cioè se io mi metto che so a spingerlo come un dannato o magari in due lo solleviamo lo sollevano lo sollevano il barbaro e Ray no si è pesante non ci arrivate non ci arrivate a ad Arginvost Arginvost con quell'aggeggio in due a spalla impossibile però possiamo almeno spostarlo qualche metodo da qualche parte riusciamo a portarlo almeno si si facendo un po' fatica fra l'altro insomma dovete fare molta forza sulle gande c'è un cinghiale gigante gli abbiamo salvato la sorella gli chiediamo di portare il teschio a Arginvost voglio dire con molta calma certo ci arriverà quando è finita la campagna non preoccupatevi basterà riposare e poi lo porterò io ma dobbiamo trovare il ricovero e arrivate fino a a Jenny che vi aspetta lei è anche troppo sorpresa di vedervi molto molto serena eh l'ha fatto? eh sì hai visto un po' di un po' di scossoni un po' di fracasso passare a una casa? eh sì 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 poi ha girato repentinamente verso l'est perché abbiamo l'impressione che stia cercando noi comunque sia tua sorella è salva anche se in condizioni non molto insomma non era non era trattata molto bene ah ma è la sua ma vecchia pellaccia è ancora viva sì cerca di curarla perché non sta bene la 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 prende la guarda guardate è voluto di tempo eh brutta scimonita gli apre la bocca prende una sorta di di piccola pozzoncina sento un'ampollina di vetro una pozzoncina tipo violastra gliela fa bere e sembra all'inizio non succedere niente fino a quando la l'anziana apre gli occhi gli sgrana inizia a vomitare viola ossendo fa e la geni vi guarda e fa funziona sempre eh avevo che meraviglia eh l'altra 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 ziana è lì a a a a a a a ecco appunto ah dov'è dov'è quella baldracca è morta mi avete portato via quel cuore nero avete strappato quel cuore nero dal petto è stata fatta a pezzi mangiata da una bestia enorme quindi immagino che sia rimasto più il cuore il cuore geni fa zitta zitta no no dobbiamo chiarirla questa cosa del cuore che parla cuore nel senso di cuore danni fa no non vi preoccupate c'ha le fisse c'ha le fisse vabbè comunque è morta ora sta zitta non è che torna in vita se non gli abbiamo strappato il cuore no 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 era viva era viva magicamente oh no no era viva magicamente non può tornare in vita ma quella ma quella ma quella casa invece se dirci qualcosa su quella casa che vive di vita propria visto che ti abbiamo trovato dentro la casa ehm sì è è tipo animata da quella caccola verde da quel cristallo vero? sì quella che è stata donata all'altro vecchio ma secondo te c'è un hai secondo te qualche idea un modo per poterla prendere? c'è qualche punto debole secondo te quella casa? ehm beh è magica è un costrutto magico se riesci a bloccarla non so ci sono ancora tipo zone anti magiche un po' fuori dalla mia giurisdizione tutto questo no fincate una mano dentro la strappate via la lanciate via che è pure una merda e basta sì quello era il nostro piano più o meno però a dirsi è più facile che a farsi ehm sì sì no non posso fare zone di antimagia nemmeno qualcosa che spenga proprio in maniera oh per pochi secondi un effetto magico no neanche quello c'ho non conosciamo altri maghi a parte Mordenkainen ma in questo momento non è qui quindi no infatti beh intanto pensiamo a riposare magari quando siamo in forza qualche idea ci viene sì sì come cosa posso andarmene ehm veni la guarda rimettiti in forza sì 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 ma posso andarmene sono stufa di questo posto puzza sono le zanzare e le mosche sì fa abbastanza schifo sto posto beh se non hai idee su come possiamo recuperare quella gemma penso che siamo a posto bene comunque grazie ci penserà a Jenny hai per caso qualche pozione curativa da lasciarci stai parlando a Jenny sì bene fa beh questo è viola ma cosa fanno scusa perché ho visto solo vomitare io pulisce dentro e è fuori evidentemente e rende belli fuori esatto stucca stucca molto bene che meraviglia quindi ha un potere curativo eh beh sì sì non è ha questi effetti secondari non particolarmente belli ma l'importante è che curi è anche vero che se ti cura ma passi il resto del tempo a vomitare beh possiamo prendere un paio in condizioni disperate potrebbero venirci comunque comode ehm senti ma no niente perché Babali Saga ti teneva lì ehm cioè chi stai era tipo tipo il una sorta di sacrificio per mantenerla giovane vabbè mi sembrava non mi sembrava proprio giovanissima comunque non sembrava funzionare beh insomma è vecchia eh era non si possono fare i miracoli era già vecchia era già vecchia 400 anni fa ah la maledetta beh direi che se li portava bene direi che siamo sul pezzo or dunque eh va bene noi qui abbiamo finito la sorella portata te l'abbiamo riportata non penso tu abbia più motivo di venire a Berz a questo punto giusto? sì 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 beh penso andrò forse già che sono qua un attimo al là e vi indica sulla dalla parte posta del fiume sull'altra sponda dove c'è una sorta di struttura di di roccia e cosa c'è? là? è un piccolo tempio votivo era da tanto tempo che non è sempre piaciuto da quando da quando ero giovane già che ci sono interessante non per me però immagino che per te lo sia beh sì bene bene noi che facciamo ci accampiamo all'acquetrino qua state attenti qua ci sono i mozzicano le zazzare grossi vesti enormi abbiamo visto anche un sacco di serpenti cose vabbè comunque eliminata la vecchia il danno più grande penso sia andato non è che non è che conoscete un modo per aiutarci a trasportare quel teschio il teschio che l'acqua scooter di di vabalisaga fino a darginbostolt no beh no no posso portarvelo io ma ci vuole tempo è giusto insomma cioè qualche liquido speciale per la forza perché ho visto che abbiamo sollevato un cinghiale una volta mi risulta ah beh sì sì potrei potrei darvi un paio di quelle anche per per quello che avete fatto ebbè quello potrebbe essere interessante il nostro buon gegga potrebbe diventare di gegga forzuto sì sì attenti che non usatele spesso perché aiuto sta arrivando sì no più che altro perché la la forza non è attuale è più mentale diciamo che raggiungi la tua massima efficacia fisica l'epifania insomma in sostanza rischi di spaccarti tutte tutte le ossa che hai nel corpo vabbè gegga prendene un paio comunque ci potranno essere utili almeno quelle che ci può dare si intende sì come le segno quante me le dà infila la mano nella bisaccia caso tira fuori tre piccole boccette di un colore rossastro leggeri riflessi più carmini segnatele come pozioni di forza immagino pozioni rosse forza le pozioni speciali di gemmi pozioni special potion psj 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 esatto a questo punto signora magari potrebbe venirci come un altro penny non si sa mai sì come fa ah ah sì beh certo ce l'avete di già no no l'abbiamo usato l'ultima volta guarda in tasca guardo in tasca e mentre guarda in tasca fammi un tiro di percezione ok in realtà lo vedi che mentre stai in tasca e non c'è assolutamente niente gemmi non esattamente con la mano più svelta dell'west sta cercando qualcosa nella sua di borsa e poi butta butta il la butta una butta la moneta per terra nell'acquitrina ah ti è cascata ah infatti era qua era in tasca bene sì sì vero vero penny genni bene questi tocchi di magia che meraviglia ho solo da imparare da questa gente posso fare un tiro di slate of hand per fargli vedere come si fa quanta esperienza a far sparire falla sparire ma fargliela venire fuori da dietro l'orecchio sai come fanno i maghi dai glielo faccio no mi cade anche a me evidentemente sì eh sono un po' stanco è un figliolo eh sì sì no è vero sono un po' stanco poi cresce un altro albero ti rendi conto no 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 per carità lo metto in tasca me lo sono segnato l'inventario i pennici le mani di merda comunque questi pennici se hai una foresta distrutta non ti ho modo per ricostruirla non so se resiste l'albero per sempre però bene e allora noi troveremo un posto per fare un bel riposino e dopodiché ci occuperemo della casa volante di Beretz beh sì state state attenti eh come sempre se avete sempre sempre attenti ricordatevi del penni certo certo buone cose io comunque fra l'altro non ve l'avevo detto no io sono fuori Vallaki fuori nella zona poco prima del campo no poco dopo dipende prima o dopo da qua poco dopo il il campo di Vistani quindi proprio fuori dalla porta sì poco poco sicuramente non potremmo non vedere il cinghiale eh vero infatti non lo vediamo eh è là dietro è dietro l'albero infatti ah capito mi pensa un cinghiale che è così di l'alberello con il cinghiale che viene fuori dai lati esatto vedi e ti fissa grosso ma vedi la coda che lento lento ma sicuro eh voglio dire lento ma sicuro anche nel nascondersi bene bene e se nessuno di voi ha bisogno d'altro noi andremo bene ora di riposare una buona giornata forza altre tanto a voi queste pozioni di cura hai presa alla fine a me le ho date eh non lo so le ho date le ho date le ho date no io ho mai dato quelle di la forza è buttissima quelle viola quelle che ti fanno vomita quanta me ne ho date eh non lo so se te le ho date è un paio che top ok le posso chiamare vomitine che meraviglia eh due vomitine almeno quanto dissero qui il cadavere della della strega perché questa cosa del cuore nero non mi ha lasciato tanto tranquillo e se quella me la rivedo davanti ecco più o meno qua sembravano piuttosto sicure del fatto che fosse morta a cuore o non cuore magari poi è simbolica il cuore nero può significare tutto sicuramente ma piantarci un'arancia dentro beh abbiamo ancora Pass Without 3 sì 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 non dura un'ora dura un'ora possiamo andare avvicinarci al cadavere dargli magari fuoco o trafiggerlo definitivamente chiaramente se non c'è in giro la casa che sta battugliando però non la vedo magari prima balizaga anche qualcosa che ci può interessare non so magari ha qualche artefatto magico non so potresti averli ingoiati no no sono sicuro di aver sputato tutto beh io magari mi fermo qua con il teschio sì tra l'altro per il teschio sto pensando che se riusciamo se non riusciamo a spostarlo io posso provare a utilizzare ma quello ci penso io una volta che lo abbiamo riportato beh ma se vogliamo portarlo già in un posto un po' più coperto dove andiamo anche a riposarci posso trascinarlo sfruttando la mia rabbia per aiutarvi a trasportarla sì sono sicuro che riuscirò a tirarlo per lo meno per un po' beh intanto assinceriamoci della morte della strega dopo decidiamo dove andare vorrei vorrei proprio farlo vorrei proprio assicurarmene io comunque resto qua con il teschio tu rimani al teschio mentre voi tornate indietro vedete i segni di dove è passata la casa ha fatto dei bei buchi sono alberi di velti e le sue orme se orme di orme si può parlare che hanno scavato dei solchi notevoli nel fango fino a quando raggiungete quello che ormai è praticamente un grumo di carne e sangue per terra spappolato l'unica cosa che sembra ancora umana è questa questo crine bianco talmente incrostato sia di fango che di suo stesso sangue il resto non è tutto masticato posso a me sembra morto posso provare a cercare e vedere se noto qualcosa di particolare il cuore magari intatto in giro piuttosto che qualche oggetto che è sopravvissuto alla carneficina fatta dal T-Rex insomma ok mi è un tiro di investigare investigare anch'io anch'io un po' melodico quindi guardo un po' mi appoggio ancora alla lancia mentre faccio tutte queste operazioni perché comunque sono ancora ferito provato dalla cosa ok allora se aveva qualcosa di valore addosso non ce l'ha più in compenso noti che effettivamente curandoti un po' il naso noti che diciamo il suo cuore è relativamente intatto nonostante la cassa toracica sia stata fracassata quindi sarebbe stato tecnicamente più sarebbe più probabile che fosse perlomeno perforata invece il cuore ti sembra relativamente intatto ed effettivamente è nero quindi non era una figura retorica se lo guardo batte non riesco a vedere il cuore magari perché c'è una ferita o quant'altro o è proprio la cassa toracica intera non batte chiamo gli altri li faccio venire lì venite qua un attimo avviciniamo e gli indico il cuore beh il cuore è nero cioè non batte ma io quasi quasi una lancia che ficcare dentro ma lo appezzi perché non rilasci cose pericolose beh allontanatevi per sicurezza non lo appezzi allora tiro fuori la lancia e prima appoggio la punta semplicemente sul cuore per vedere se reagisce in qualche maniera prima di di affondare diciamo la punta e se non e se non vedo alcuna reazione piano piano spingo dentro fino poi a cercare di trapassarlo di colpo sai come fai per andare a prendere i salmone in acqua più quando vai a prendere le rane una forchetta legata chiaramente cerco di stare con la parte finale della lancia verso il cuore in modo che se dovesse schizzarmi schifo addosso magari sono un po' distante non mi corro della faccia e provi cioè la vicini non si muove cioè non si muove non fa niente è chiaramente un corpo nerte è un organo però quando vai a perforarlo fa resistenza nel senso che non riesci a afficcare la lama non è come fosse pietra però non si non si riesce a perforare giro la lancia e provo a poccarlo con la parte dietro con la parte di legno sai come quando usi tipici pali da dieci piedi per toccare le cose per attivare le trappole per vedere se capisco se fa qualcosa sembra che sia acido corrode il bastone insomma l'arma è magica però provi a toccarlo provi a strusciarlo a rotolarlo a battocchiarlo non ha non ha nessuna reazione particolare sembra veramente fermo soltanto che non riesci a basta io mi avvicino e lo prendo per sradicarlo dalla sua sede e tirarlo da solo se non farlo fuori sì lo nonostante sia un'esperienza non particolarmente divertente lo fai ti rende a tirarlo fuori dal perfetto perché appunto diciamo che non offre molta resistenza attualmente perfetto una volta preso lo butto per terra isolato torno a noi per terra davanti a noi troviamo un modo per polverizzare questa cosa per un momento pensavo lo volessi schiacciare sei il modello proprio incazzato già un calcio provo provo col piede a schiacciarlo a vedere cosa succede con molta forza provo come si schiaccia con il calcagno la testa della serie è presente quando provi a a tirar giù un pallone da calcio appena gonfiato con il piede la stessa roba ok va bene allora lo prendo in mano e provo proprio con tutte e due le mani a stringerlo proprio a schiacciarlo con tutta la forza che ho vedere se riesco lo stringi lo stringi lo senti senti che comunque non è di materia completamente cioè non è un diamante però non riesci a non riesci a scappolare Oberon brucialo è un cuore molto potente questo e dopo questo mi butta la terra provo con la magia vai Oberon fammi vedere lo lancio proprio con sprigio proprio giù vaffanculo cuore del cazzo gli lancio un cromatic orb di fuoco ok e non dirmi che l'ha schivato perché il cuore si alza e ti spara no e il danno lo prendi lo prendi il cuore prende all'inizio fuoco e ti apprende proprio bene bene fuoco e sta acceso per un po' come se ci fosse sopra il petrolio dopo 20 secondi si spegne ed è in sostanza intatto questo ce lo portiamo dietro che maleficio scusami scusami max provo a lanciargli detect magic vedo se c'è qualcosa che ha un'aura intorno però sembra necromantica ma non è ma sembra più di natura divina che arcana è un po' strano beh io provo ce l'hai tu dispel magic fare dispel magic sull'oggetto sul cuore ok c'è dispel magic un po' deve lanciarlo sulla casa è quello che ho pensato prima infatti tu serio e ce l'ha detto anche la tizia poi perché sto per non c'è qualcosa la tizia è dopo la casa non è prima infatti dopo abbiamo fatto una discussione con espo ma forse non c'ero non c'ero forse mi ero alzato ero andato di là no no e quando gli ho chiesto a oberon se aveva qualcosa per annullare per un momento la magia ti ricordi gli ho fatto una lista di cose che non ha vabbè adesso lo sappiamo però aspetta adesso lo sapete da un pezzo non è che la prima adesso non è che io ho il quadro delle tue spell io ho tutte le tue spell adesso glielo chiedo non credo adesso glielo chiedo papà e quello cos'era Zashin per per cercare di togliere di far svanire la magia che c'è intorno a quel cuore potrebbe essere la soluzione per la casa hai ragione non ci ho pensato but I'm coming va bene ma non sono così sicuro che possa funzionare potrebbe non funzionare in effetti forse tu sei in grado di animare una casa perché sei in grado di animare una casa magari il livello di potenza è lo stesso eh no credo che sia una roba nettamente a livello superiore magari la può bloccare per un attimo forse comunque io ho tirato ha fatto anche un suono proprio ha fatto una piega prendilo prendilo Jag portalo via senti il consiglio di Ray nella testa ma non toccarlo però eh non toccarlo mettici un panno Oberon troviamo una roccia e seppelliscilo dentro la roccia eh ma però troviamo un grande sasso e lo fai entrare dentro il sasso di un metro e richiudi ed è lì ma chi mai lo troverà è lì per sempre lo so magari non serve il cuore io non sono esperto di negromanzia guardami ti sembro esperto di negromanzia però magari il cuore è più che sufficiente per essere un ehm magari qualcuno lo trova sentendo il potere del cuore come dire potrebbe essere benissimo un non so come si dice in italiano Vessel un contenitore contenitore per cioè che so magari lei si sta riformando da qualche parte ma non ha bisogno del cuore dentro di sé basta che il cuore esista beh ma abbiamo comunque le conoscenze possiamo chiedere a Mordenkine va bene va bene va bene pure potremmo spedirlo a strad per fargli capire la situazione pure potremmo darlo agli amiconi a Kretz che i nostri amici diavoli magari loro apprezzano ti diamo questo è potentissimo tu te ne vai siamo tutti amici come prima a proposito spero che siano andati via da lì non abbiamo più controllato spero che la città sia ancora in piedi no la baronessa i nostri alleati e poi potremmo anche presentarlo ai ai cavaliere di Arginbostolt voglio dire lei ha rubato il teschio guardate questa il cuore della responsabile però io starei attento a dire questa cosa al comandante non ci riteneva una minaccia se pensa che siamo una minaccia per strada potrebbero essere più così infatti prima risolvere il problema il mistero di Arginbost se riusciamo ad avere la sua benedizione in qualche maniera in teoria che il comandante dovrà ricredersi ritorniamo da Ray controllo se nel mio zaino ho qualcosa per poter coprire il cuore sì ho i ho i panni extra di vestiti da viaggiatore immagino di avere anche un mantello lo apropo dentro quel mantello lì e poi lo rimetto lo richiudo nella borsa cuore di stronza lo chiudi ben bene e lo infiui dentro lo zaino ok anche se lo mangi ti dà un sacco di potere che buono sembra masticabile ma ci verso sopra dell'alcol va bene ho tre bottiglie di Red Dragon ha visto che torniamo da Ray intanto beh lo aggiorniamo su quello che abbiamo scoperto che vi sta aspettando accanto al teschio beh la casa non è passata quindi forse tornato in posizione di partenza mettiamola in questo modo direi di attenerci al piano ci facciamo una bella dormita riposiamo e domani mattina oh da che ore sono Max? io dico domani mattina ma magari era tipo domani sera domeriggio facciamo una bella dormita facciamo una bella dormita e gli facciamo un bel attacco notturno eh come piace a noi diretti non riportiamo il teschio prima eh già che siamo qua potremmo fare quanto dista più o meno Arginvost tolto da qua eh da qua lontanuccio abbiamo messo tanto ad arrivare giù non ricordo è un giorno tipo minchia è una cosa così forse qualcosina è meno ma comunque un po' sono preoccupato del fatto di lasciare il teschio così in giro per quello se si mette a volare via da solo siamo finiti oddio non ho fatto nessuna mossa in questo tempo che siete stati via ma in ogni caso credo che l'unica minaccia sia rimasta quella roba che si sposta va bene allora facciamo così torniamo adesso qua se troviamo un punto un po' nascosto leghiamo il teschio a un albero perché è come il brucetto della bicicletta per essere sicuri che non se ne vola via da solo e poi io comunque non attaccherai di notte la casa perché la casa secondo me non ha bisogno di occhi per vederci ma noi si possiamo aspettare domani mattina c'è anche Red non discuto del no ha ragione praticamente è inicepibile ok quindi fate dove è andata a fare il campo siamo già in una zona abbastanza coperta siamo vicino a una strada ancora è ancora palude è ancora palude potete uscire un po' fuori eh direi che è il caso già che tanto è ancora presto possiamo allontanarci un attimino direi vi allontanate trascinandovi il teschio che sembra sempre più pesante ma siamo in quattro tutti se non riusciamo a spostarlo comunque uso una rage per aiutarmi riusciamo in quattro penso che tu ti diano una mano sì beh però se non fosse sufficiente cominciamo no a parte jegga penso che tutti abbiamo uno di forza voglio dire trovate un luogo un pochino più appartato io menù io faccio finta di spingerla ma non lo sto spingendo io spingo jegga non mi sono immaginato più che ero davanti a tirarlo dal bene allora ci accampiamo accampiamo sì accampiamo ok vi accampate a parte qualche zanzara di troppo io approfitto per farmi una passeggiata lì nei dintorni in cerca di qualche serpente non c'è la mia tua i serpenti quei serpenti sono grossi però eh vabbè no quelli ok vai a farti una passeggiata fammi un tiro di nature o spravvivenza scusami spravvivenza addirittura pardon c'è poca riesci a notare esattamente una rota di quelle che generalmente nascondono serpentelli lo tiri su e lo trovi lo prendo con la mia incredibile agilità ormai lo so lo so fare la solita tecnica col bastone sul collo della della bestia una volta immobilizzata la testa a terra passo sotto la mano e lo tiro su spizzandolo tu c'è la testa esatto e lo riesci a tirar su tranquillamente senza rischiare nulla eh incomincio a vedere cosa c'è ok è un è una una sorta di ricostruzione storica di quello che è successo a Berets Berets prima era una cittadina all'incirca delle stesse dimensioni di Vallaki che era era cresciuta moltissimo anche per la per la presenza dei dei cavalieri del drag argente poco sopra e dal fatto che in basso a parte il fiume non c'è molto quindi era piuttosto ben protetto è diventato quella che è diventato nel momento in cui Brad ha perso la testa per una tal marina una ragazza dai capelli rossi era una popolana e ha distrutto la città purtroppo questa marina era era la sposa cioè non era la sposa era la promessa sposa di un abili locale un poco di buono fra l'altro che ha deciso piuttosto di lasciarla in mano al vampiro di farla fuori alla faccia committed strad non particolarmente non l'ha presa bene no ha deciso di allagare completamente la città postando il il fiume nella reincarnazione di tatiana ho detto una cazzata tatiana è il nome soddisfatto è un po' ok no ho detto una cazzata ho detto un nome a caso no è tatiana il suo nome originale il suo primo nome il nome originale della voglio dire ancora una volta si dimostra strada cioè questa è una parentesi mia comunque strada non ha colpe ancora una volta reagisce alla provocazione nel modo giusto allora diciamo che comunque il tizio non ha fatto una mossa proprio ecco cioè il pezzo di merda il tizio nella storia voglio dire o strad si diciamo che strada non è nemmeno la vittima la vittima direi che è marina poverina la vittima è tutta la popolazione della cittadina annegata vabbè però quelli sono dettagli con l'acqua che sale casimente al negro fa e basta va bene ritorno dagli altri riposo insomma medito riposate fino a che ora vi riposate full rest beh a questo punto direi fino alle prime luci dell'alba esatto abbondante pure no che abbondante magari magari max rolloicini cieco dardi non si svegliano a buon'ora ricordo però minchia io mi sveglio talmente tardi ragazzi magari max cerco di dormire quanto necessario per fare il long rest e se passa più tempo io in realtà mi metto a cioè a fare la guardia perlomeno a stare sveglio un po' più solo attenti rispetto a ma scusa c'è l'elfo che fa che non dorme si uguale un aiuto in più a tenere d'occhio la zona piuttosto che dormire per niente dico no certo c'è anche un po' inquieto ecco ti svegli e vai a fare la guardia siete molto cioè siete abbastanza distanti e vi siete allontanati considerevolmente dal centro siamo svegli quindi siamo svegli svegliate recupero tutto a parte qualche puntura di insetto state bene è abbastanza riposato non passano la mia pelle d'acciaio gli insetti non sorge second win ok un armor and defense è pieno utile anche contro gli insetti max fammi un tiro di pelle d'acciaio se li schivi non so magari li riesci a schivare e no un armor and defense in teoria è perché io faccio rimbalzare i colpi coi muscoli ok va bene piano d'attacco per la casa prima di tutto dobbiamo rintracciarla seguire le sue orme non sarà difficile è una buona idea immagino che la tua magia per renderci comunque più nascosti sia in ogni caso comoda è a disposizione nel momento in cui la avvisteremo dunque direi di allora ci conviene piuttosto farci trasportare in volo arriviamo in volo almeno possiamo entrare direttamente allora visto che hai fatto la considerazione degli occhi penso che essere invisibili non serva siamo d'accordo no 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 serve serve non è detto serve serve non sono stato avvistato quando mi sono sono atterrato volante pronte a lei o magari ma non c'erano tipo i magari era ancora dormiente in quel momento beh comunque per gli spostamenti non c'è problema mi trasformo in Kezakkoatol e voi salite tutti in Gropamè e voliamo veloci quanti possono rimanere invisibili però quello ci pensa Oberon ma quanti siamo in 4 non sono 3 il massimo 3 massimo quindi risulterebbe che c'è qualcosa che vola magari non sei tu ma qualcuno di noi trasportato è invisibile non credo se ne accorgerà beh immagino che non sarà piacevole se sulla testa della casa gli arriva un t-rex gigante da una certa altezza non è piacevole neanche per il t-rex non sono famosi per atterrare in piedi beh però se fossero gatte poi con quelle braccine in realtà le usano per bilanciarsi le braccine il t-rex può essere dai 4500 kg fino ai 14000 kg eh ma perché non è mai stato chiarito in realtà non è che c'è un range quello è quello che dice wikipane immagino che c'erano quelli che mangiavano e quelli che mangiavano quanti danni gli faccio la casa se gli cado in testa così quanti danni ti fai anche però eh boh gli farai da che altezza sono una decina di metri una ventina di metri una decina di metri vista le dimensioni quanti sono 4 da di 10 vista la la massa tu vuoi lanciarti e trasformarti in volo esatto se per caso non riesci a trasformarti ti schianti e muori quello non penso che sarà un problema trasformarmi lo faccio spesso aspetta com'era il gesto allora se io non fossi in un gioco è un rischio che non prenderei però vedi tu nel senso a me mi piace che c'è la sindrome del tanto mi riesce tutto però vedi tu io che altro la sindrome del ok ho questo piano ed è una roba assurda eh si è una roba completamente assurda salti da da trasformarti non ti lascia a terra sopra ma che cazzo è cioè piuttosto è meglio che zamu ti tiene in volo e gli spari dai in volo se si rianima c'ha più senso si però secondo me è perché lui è rimasto ancora è rimasto ancora colpito io ricordo da merceneris quando usavamo l'elicottero e attaccavamo il carro armato sotto no e voleva fare una roba del genere probabilmente però è assurdamente pericolosa una roba del genere non penso a meno che non mi fa tirare qualche cosa perché ammetti caso che mentre cadi tira fuori che ne so una radice ti prende al volo e non ti trasformi beh l'idea che ti trasformi appena ti stacchi vabbè se tu te la senti per me ti puoi leggere diventare un t-rex io non te lo impedisco assolutamente scenico è scenico però ragazzi è pericoloso non non c'è non abbiamo ancora formulato un piano abbiamo dormito ci siamo svegliati ma le idee sono scarse come ieri sera beh allora se vogliamo dirla tutta il dispel magic pareva essere un'opzione interessante anche secondo quello che ha detto ok ma una volta che sarò là davanti e avrò cassato dispel magic e avrà fallito quale sarà il piano il piano che urlerà come un killer e si lancerà sulla casa bene quindi il piano è scappare e poi tornare per raccogliere il cadavere di Jag ma sembra piuttosto confidente io prendo prendo i colpi e poi tirate fuori quella cavia di Gem ma se il dispel magic ci viene comodo che li ferma magari prendo un colpo in meno quindi l'idea giusto per capire Zashi quando sei entrato la casa ti ha rilevato subito o hai dovuto fare è successo qualcosa prima che la casa ti rilevasse eh ho tocchignato ok quindi in linea di principio se non tocchiamo niente la casa magari non ci vede finché siamo invisibili questa non è una cosa che vi posso assicurare non è una cosa che posso garantire a meno che ora non sia sempre attiva e quindi è attiva io immagino che stia seguendo l'ultimo ordine di Babali Saga cioè ucciderci il che significa che adesso non sarà lì tranquilla ad aspettare che noi arriviamo questo non lo sappiamo magari se non trova il bersaglio si spegne vabbè cominciamo a rintracciarla in stand by cominciamo a rintracciarla questo ci viene semplice siamo d'accordo voglia tanto finché siamo in volo possiamo guardare la situazione e non essere attaccati va bene Zashin si trasforma noi li saliamo in groppa e vediamo la situazione come è mentre siamo in volo decidiamo non serve che mi rendi invisibile rendi invisibile le persone voi tre ma in realtà non serve che siamo invisibili nessuno in questo momento effettivamente dobbiamo solo capire dov'è e allora non prendete decisioni stupide perché poi non potrò parlare non potrò dire la mia sulle vostre decisioni stupide facciamo così due versi veloci sono un no non fate questa cosa qua un verso e un'approvazione ok perlomeno abbiamo un modo di capire ok un verso e un'approvazione due versi e una negazione mi piace invece sono tanti 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 versi assolutamente no abort mission ce ne andiamo fanculo comunque se avessi preso parlare con le piante dopo quell'affermazione sono un cazzo al colto per non rispondere giusto ma dio di dio ma perché di dio perché lo fai ma perché faccio queste cose che sono bene non so non so perché lo fai bomber non sei tu se l'ho visto passare e anche io l'ho visto passare tutti i miei antenati ieri ieri e oggi succederà di nuovo però vediamo di portarla a casa non si può vivere per sempre mettiamola così concorda concorda vedi concorda ha funzionato questa cosa del verso marocca era giù di visione già questa cosa bene io mi dirigo mi dirigo verso l'ultima posizione che abbiamo visto del barack house barack house e beh la casa baracca volate bello freschino là sopra freschetto e poi cerco di da dove sono di individuare le orme con la mia vista super acuta da predatore riesci a vedere la casa eccola lì lontananza ha detto no no peggio delle unghie sulla lavagna però non è il suo posto originale ha detto no prendo quota e vado giro intorno alla casa da in alto parecchio in alto ha detto no ho detto no no era una segnalazione della casa noi da sopra max visto che ci sono le rovine lì vicino abbiamo vediamo un modo per avvicinarci il più possibile alla casa senza essere individuati cioè che ci sono dei e soprattutto la casa è ferma o si muove? sembra abbastanza ferma cioè vediamo dei modo di avvicinarci sono delle cose che bloccano visivamente la casa tra tra un punto e l'altro per dire tipo dove c'è dove ci sono le rovine qua fino ad arrivare la casa no scusatemi ma Balizaga è morta a vita sembra è quasi mo la casa si muove ferma sembra abbastanza ferma ma funziona funziona così in realtà questa vita non ci sono certezze in questa vita a che altezza siamo io ho detto che ho preso quota insomma è salito ok però è il nostro tema io preferivo stare con i piedi per terra lassù dove osano io non dico niente perché sto per vomitare quindi sulla casa che ci vede comunque dietro si potete avvicinarvi non è banale perché la zona dove si è fermata è abbastanza aperta e c'è anche un bel acquitrino quindi forse un pochino di rumore hai detto acquitrino quindi cosa facciamo ci facciamo lanciare sulla casa in invisibili sperando che non si attiva di gravità adesso che sono qua sopra l'idea mi sembra più valvagia di prima beh hai detto che sembra fermo giusto? si non si sta non sta camminando in giro poi se muove un muove una radice da dove siete non lo vedete posso fare un tiro di arcana per vedere se sento energia ok prova anche a volare così è che fai un po' di precipito puoi planare puoi planare sai che comunque non è che è fatto da qua girano da qua l'unica cosa che noti è la luce verde ameraldo intensa che pulsa all'interno da scena abbassati un attimo vediamo se si muove di più cerca di stargli lontano dalle radici ma vediamo se si muove se attiva non hanno impicchiata ci piglia in volo figlio facciamo splatto facciamo attendete per un po' e notate che ora la 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 casa si è siccome si avesse ripreso vita e si si ruota verso la direzione che questa è il coat ok si rileva la casa avrà dei radar dei sonar qualcosa io dico che potremmo provare il dispel magic di Zashin è certo a questo punto non ho questo è un no come faccio se sto volando è chiaro significa formulare un piano che preveda che ti lasci lontano o leggermente non troppo vicino e ci avviciniamo furtivamente come l'abbiamo schivata la sera prima Zashin le rovine quelle lì dietro un po' a nord nord ovest della casa riesce a portarci là magari forse arrivare in volo non è una buona idea sto andando a maniera velocità lì no nel senso che lui intende attaccarla poi in volo non ci facciamo lanciare sulla casa ma non so se è una buona idea a questo punto se ci rileva rischiamo che ci abbatte tutti in volo è un rischio è un rischio che vorrei evitare anch'io visto che mi sta comunque vedendo da vomitare qui sopra beh allora io max riprendo quota per uscire dal range di visione della casa come per allontanarmi e poi voglio fare una cosa tipo allontanarmi e poi andare dietro alle rovine dietro alle rovine non visto dal in maniera che non ci vedo di non essere direttamente on site ok e poi e atterro ok atterri immagino torno anche in forma no per ora no perché non spreco trasformazione se dovesse servirmi il problema è che se ci avviciniamo la casa ci rileva anche se ci avviciniamo di nascosto magari non sa dove siamo ma ci sente cioè non è che possiamo scalarla senza che se ne accorga beh io continuo a pensare che l'idea di fermare la sua magia per un momento potrebbe essere ok ma se non funziona se non funziona facciamo esplodere pace si ma dobbiamo arrivare a nabber farla esplodere a colpi di palle di fuoco non lo so e quello secondo me conviene che ci lanciamo sulla casa dall'alto e la prima cosa che fa Zashin appena ritorna a mano e fare l'antimagia o quello che almeno abbiamo la possibilità che se non dovesse funzionare siamo già nella casa possiamo provare a entrare prendere la gemma e allontanarci ho una domanda per te Oberon quella roba che mi che sembra una droga che mi fa diventare veloce quanto dura? minuto? aspetta non mi ricordo pace ma un po' è dura minuto? maledizione ma c'è un modo se qualcuno riesce a entrare nella casa lo posso fare rendere invincibile finché rimane dentro la palla ma getti una palla che non può essere distrutta il problema è che non puoi fare niente finché sei nella palla quindi fammi capire bene vogliamo lanciare Jag nella casa dentro la palla giusto? o entrare nella casa prendere la gemma attivare la bomba impallare la gente ma una volta una volta rimossa la gemma non c'è bisogno di farla saltare allora si possiamo possiamo farla dentro la casa può finché non prende colpi può stare nella palla oppure vabbè c'è comunque questa magia che rende invincibile qualcuno all'interno finché rimane la palla che può essere utile e non posso utilizzarla per avvicinarmi quindi a più di mente si puoi avvicinarla ma non so se nella quick train riuscirei a muoverti all'interno di una palla e se prendi un colpo secondo me ti fai un volo ma allora a questo punto lo mettiamo nella palla e facciamo depositare la palla sopra la casa e mentre che dobbiamo avvicinarci se ci abbatte in volo beh tu a te regola palla il problema è che è una palla ci vai da solo entriamo tutti se vi abbatte mentre ci avviciniamo in volo ma al limite abbatte Zashin sei d'accordo? tu sei ah io vado non ha senso se non siamo io non ho la capacità di parlare nel pensiero le persone non ce l'hai ho capito però aspetta 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 vuol dire che devo entrare da solo? c'è l'idea che io entravo prendevo le sberle ma qualcuno si occupava della gemma la palla è una se vogliamo usare questa palla che non abbiamo mai visto allora ci conviene entrare tutti quanti dall'alto cercare di fare il prima possibile a prendere la gemma e basta più siamo nella casa più possiamo fare in fretta e più possiamo difendersi no è un no non è d'accordo Zashin questa comunicazione mi sta facendo impazzire non dirlo ma andarci a piedi se ci rileva posso parlare avvicinarmi se può cominciare ad attaccarmi ma se il po' ci viene dietro non va bene anche quello aspetta ho un'idea disegna con la zampa per terra quello che ci vuoi dire sennò diventa drammatica io ho delle mani prensili in qualche modo ma prensili di sicuro eh prensili di sicuro riesco a tenere in bacchetto con la mano destra un bacchetto di di legno aspetta fammelo rivedere è una domanda difficile questa mi sembra che ha delle zampette la si ha le zampette ma le zampette con le unghiette non so come volete farla se ci avviciniamo questa attacca con l'unghia con l'unghia della zampa non serve che prendo mentre lui prende il bacchetto non serve il bacchetto con l'unghia della zampa incomincio a disegnare sulla terra e disegno faccio il disegno con la pe esatto e incomincio a disegnare questa perché me l'hanno cancellato non so perché io lo vedo ancora in realtà no infatti me l'ha fatta nel buio l'hai fatta nel buio della nonna infatti ne vedo due ok vabbè cancella se puoi eh che non dico ok te le cancella ok grazie mentre il disegno comunque cos'è quella roba volare eh volare sì è un uccello vuole volare quattro lettere inizia con la via quindi siete quindi sono tre persone giusto tre beh sì stiamo tutti stiamo tutti stiamo tutti su di te stiamo tutti su di te giusto è un b52 quello che cosa ok stiamo tutti su di te casa casa bene bene casa ok quella è la casa va bene ma fai anche dei segni con la testa in modo che capiamo se ci stiamo prendendo sennò diventa complessa quindi andiamo verso la casa volando con la palla quella è la palla ci andiamo impicchiata verso la casa ah ah no ma volo radente lanciamo la palla con me dentro dentro la casa in volo ma cosa la palla è una palla cioè rotoli in giro non puoi entrare così senti vogliamo usare questo cazzo di dispel magic mi prego aspetta 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 sentite c'è il locati nel dai senti piano ascolta mentre lui cerca di disegnare bene quella roba che io non ci ho capito un cazzo e se invece la la casa la attiro verso di noi e poi cosa fai cioè dobbiamo entrare una casa sopra va bene dobbiamo scalarla ok non hai qualcosa per farci saltare di più che cazzo ne so sei tu un mago si ho capito ma non posso fare tutto maghi possiamo fare tutto ma non possiamo fare niente no ascolta qua non abbiamo max non c'è qualche rovina un po' più alta qua dentro o qualche residuo di casa qualcosa le radici dal basso sono scalabili le radici dal basso si vuole lanciare vuole lanciare la palla di fuoco dal cielo ah e poi poi prendiamo la gemma non la ammazzeremo di certo con una palla di fuoco quella roba ah con due perfetta non la con due non penso la palla di fuoco ascolta a questo punto spesso le soluzioni ai problemi più difficili prevedono soluzioni molto facili ci facciamo trasportare tutti sulla casa ci buttiamo a prendere questa gemma il più velocemente possibile e speriamo di sopravvivere no non sei convinto io sono d'accordo la soluzione migliore beh l'idea è che in realtà forse Zashin e e Oberon rimanessero fuori sono i più fragili bene può lasciare solo me e te e prova sto display magic beh senza sicurezza loro se dovessimo se non dovessimo farcela potrebbero comunque fare dei danni alla casa beh immagino di si però l'idea è che io e te ce la facciamo entriamo dentro se la casa ci attacca puoi diventare un t-rex è questo che stai dicendo vero? se la casa ci attacca sono schiaffoni pesanti ma se noi se tu ti trasformassi in un t-rex e noi saltassimo sul t-rex e andassi dritto verso la casa faccia di Zashin lo so sto cercando il formulare dei piani vedo che non mi state dando una mano ma io ti ho detto lanciarsi da sopra secondo me è la cosa migliore tutti siamo dentro possiamo dare una mano forse tu è meglio che non vieni perché con un colpo ti shot ma poi per sempre non mi ricordo più dentro la casa lo colpiva con i rami come se era fuori minchia per quello l'idea che io entro prendo più spalle possibili e mentre prego fate le domande giuste vi prego puoi tornare in un coso umano e poi ritrasformarti dopo ne hai di trasformazioni? due oppure puoi atterrare direttamente sulla casa e trasformarti in qualcos'altro anche tu insieme a noi atterri sulla casa insieme a noi e ti trasformi ancora nell'orso basta sono disperato per ritorno in forma in forma perché non riesco a fargli capire una cosa veramente eh non gli entra in testa ritorno druido ragazzi quello che non riuscite a capire è anche se entrate dentro sapete come prendere quella pietra ma ci hai spiegato più o meno com'è la lancia ci arriva l'idea era quella no? non vi permetterà di eseguire quell'azione è una lancia infilata in un buco non vedo come possa sollevare una pietra sospesa nel vuoto almeno pensateci insomma allora c'è un problema di semiotica perché se te l'ha chiesto prima e tu hai detto si la lancia passa c'è modo di gestire la lancia passa va bene è un'informazione importante sapere che non riusciamo a estrarla però allora tanto così quello che vi ho detto ve l'ho detto in tutti i modi ve l'ho detto adesso però l'informazione precedente era che la lancia riusciva a più o meno tirarla fuori c'è un problema di semiotica che è tutto questo sei d'accordo con me non mi ricordo ma l'abbiamo capito tutti così se tutti vogliamo entrare in casa sei d'accordo non ho capito scusami questa sfera questa gemma è in mezzo a una specie di buco in profondità si profondo due metri sospeso nel nulla il buco non è abbastanza grande da farci passare una persona ma cosa lo blocca del legno no cosa blocca cosa nessuno blocca niente il tunnel è fatto di legno nel tronco è un incavo all'interno dell'albero insomma dici che non riesco a dare la forza con le pozioni di jenny fatto di legno è il legno dell'albero non so se tu a mani nude strappi no è per capire che se è un cilindro è un cilindro è un cilindro o se è tutto il legno della casa non riesco a capire come l'hai visualizzato l'hai visto tu non l'ho visto io non ho capito nel senso è tu hai il pavimento della casa esatto tu entri dentro la casa al centro del pavimento c'è un buco profondo circolare profondo due metri al cui sul fondo sospeso al cui interno sospeso c'è la pietra c'è il cristallo col braccio non ci arrivi a toccare la pietra con la lancia ci arrivi a portarla fino alla ma come fai con una lancia a sollevare una pietra ti ho detto che pensavo di fare le tira ho capito però il tuo tentativo di farlo sarà nel mezzo di un albero che con dei tentacoli ti sposta ti sballottola si mette in verticale ti impedirà di fare quello che vuoi fare capisci e nel il tuo tentativo di farlo non verrà portato a buon termine perché ti arriveranno quattro tentacoli addosso se non ricordo male però la gemma era visibile anche da sotto no no non è visibile da sotto e ho provato quando ero sotto l'albero ho provato ho chiesto a Max se riuscivo a intuire la spessore che mancava tra la gemma e il sotto della casa ma ha detto che non riuscivo a capirlo insomma comunque bella spessa comunque c'è un bel po' di legno da passare da sotto per arrivare lì il buco è al centro della casa della stanza che è sopra l'albero quindi l'idea potrebbe essere va bene la lancia costruiamo qualcosa abbiamo due lance un giavellotto qualcosa perché se se creiamo una corda un cappio e lo leghiamo a due bastoni e e poi la pietra è una sorta tirastrellino per tirarla su esatto la pietra così ha un po' più senso che possiamo tirarla su volendo ma sei sicuro che non possiamo distruggere questo contenitore di legno è l'albero stesso è l'albero non è un contenitore è scavato all'interno dell'albero anche io pensavo che in realtà fosse un coso di legno separato dal centro immagino è comunque un albero sarà animato ma penso che prenderà danni se lo colpisce e qui ritorniamo al mio punto secondo me la cosa più efficace è dargli fuoco a ripetizione non penso che si butterà nell'acqua nel senso è legno e prenderà fuoco e brucerà fino alla fine della sua vita non sappiamo cosa farà è una forza magica potrebbe anche non prendere fuoco o comunque dispellare il fuoco in fretta comunque io direi che il primo tentativo sensato è provare con il dispel magic per vedere se funziona una volta che abbiamo visto che non funziona il secondo tentativo è dargli fuoco se non funziona il dargli fuoco allora proviamo con la cosa più rischiosa che è quella di mettere a repentaglio le nostre vite e entrare all'interno per provare a prendere quella pietra perché quella è francamente la cosa più pericolosa da fare di tutte ed è anche quella con meno probabilità di successo cioè dobbiamo avere fortuna dobbiamo essere agili veloci e farlo al primo colpo secondo me la cosa più improbabile è riuscire a distruggerla dall'esterno io continuo a ribadire che il legno prende fuoco poi se datemi questa cioè ditemi contro questa cosa qual è sia il dubbio no sicuramente sicuramente subisce dei danni no è anche un palazzo caspita cioè non penso che abbiamo la potenza di fuoco per abbatterlo di fuoco letteralmente prima che lei abbatta noi si intende è quello cioè è chiaro che io bre se solo è purtroppo che non ho preso perché non posso cambiare i cani la soluzione la soluzione riempivo sarebbe stato sarebbe bastato riempire il buco dove c'è la gemma riempirlo d'acqua e poi ghiacciare l'acqua avrebbe fatto esplodere le pareti no sarebbe uscita da sopra sarebbe uscita da sopra beh la tappavamo eh ma anche se ci vuole tempo mentre questa si muove l'idea è buona però il cambiamento di stato avrebbe fatto salire l'acqua il ghiaccio sopra sì assolutamente no vabbè ok non abbiamo un attrezzo per estrarla quindi sta pietra lo possiamo creare l'attrezzo io ho i tif tool non penso che però abbiano qualcosa per abbiamo le corde abbiamo le corde bastano due bastoni e una corda per creare un attrezzo atto beh potremmo fare una rete una rete una piccola rete tenuta da due bastoni e la ma neanche un piccolo bola sai tipo un sacchetto a cucchiaio esatto esatto un piccolo canestro chiuso intrecciato di corda con il bastone che lo tiene sono pieno di corda mi procedo già a intrecciare mi metto per fare il canestro a cui attaccare il bastone intanto che voi stavate parlando io ho preparato già la copertina della puntata la casa nel bosco ti prego no perché avevo anche io un'idea meraviglioso meraviglioso oddio è terribile è terribile è meraviglioso anche gli omini più o meno sono quelli è terribile anche la casa comunque non c'è più va bene quindi ci lanciamo nella casa ma tiro è andato non c'è più siamo morti io sto costruendo il canestro l'ho costruito max cos'è che cavolo è una piccola rete chiusa praticamente usava la corda per interciare insieme e fare una sorta di sai tipo le reti da pesca no? sì sì un cestello chiuso tipo il mestolo un mestolo di sopravvivenza però insomma un mestolo di corde fare un tiro di sopravvivenza io druido di 184 anni che fa queste cose da 100 almeno 170 anni vabbè sai pescare ho mangiato tutti gli animali esistenti ma se te lo pescano gli altri non vale però scusa ok hai fatto una retina attaccata perfetto dove la fissiamo? a un bastone alla lancia o qualcosa di lungo al 2 metri o la lancia di la lancia è la prima cosa probabilmente lunga a sufficienza passami la lancia Jag mi raccomando trattala bene certo regala sul retro se puoi così posso colpire nel frattempo anche qualcosa certo tieni fatto ecco abbiamo l'utensile ora procediamo col piano va bene? a 200 gradi se siamo d'accordo tutti quanti un'ultima cosa se volete posso stare fuori e creare questa sfera e attirare gli attacchi iniziali bravo questa è una buona idea però dura un minuto posso creare anche una semisfera dove sono dentro però fatemi capire mi avete tutti quanti cassato l'attacco col fuoco non si fa quindi volete subito provare ad andare dentro anche perché se noi entriamo e poi ci spara il fuoco e noi siamo dentro no no lo so che era a una escludeva l'altra però mi sembra più intelligente questa cosa rimossa la la pietra va bene mi aspetto che si spenga la casa se Oberon all'esterno effettivamente riesce a tirare attirare la casa tu sei invulnerabile dentro lì giusto? si si sono invulnerabile e tu depositi me e jega sopra io direi che una volta che ci depositi sopra vai vicino a Oberon o da un'altra parte e provi comunque a lanciargli Dispel Magic se riesci anche a fermarla per un momento noi riusciremo nell'intento questo è un buon piano si certo va bene quindi io attiro la appena vedete che la casa mi attacca e sono dentro la sfera voi vi lanciate nella casa Dashin si allontana leggermente e usa Dispel Magic e Max ribe di tutto questo e sperate di riuscire a tirare fuori la gemma ok Ray si quando siamo dentro tenta di aiutarmi a reggermi l'equilibrio l'idea è quella nel senso usa l'help action eventualmente per aiutarmi a fare i tiri con vantaggio assolutamente era già pronto il manuale per leggere vai sereno riesci a tenermi un po' fermo forse ce la possiamo fare bene ora me lo dovete raccontare in tempo reale che meraviglia in tempo reale in che senso se dobbiamo rispiegarti il piano come faremo a gira a gira certo ok Dashin trasformati nell'uccellone con bacconi perché se dobbiamo portarli via aerea eh si se no come facciamo scalare io ho il coso per scalare ma cioè ok va bene va bene allora allora vieni anche tu e ti lascio a terra poi dove scendo io il casto di spell e tu e tu lui è il primo che deve vedere la casa e lui in modo che la casa si lanci allora quindi il piano è io mi trasformo intanto espo si fa vedere altra la casa e ok bene secondariamente tu ci parcheggi sulla casa dopo di che ti sganci si 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 ho capito se ho capito questo mi trasformo va bene ok signori un piano di merda ma potrebbe riuscire prepara il sigaro per dopo si non lo faccio suonare tasci oberon fategli il culo a strada è tutto per barovia rei no per me no per noi quant'era grande questa quadros era huge huge beast si vabbè ma sono in pieno in tutta la mia fierezza sono no si stringe un po' sono sono disteso per terra poi devo far salire loro l'ho piazzato nascosto sei umile comunque sono umile sono umile nascosto dietro l'eroino non cercare di sabotare quindi voi volate aspettate che inizi ad attaccarmi operazione gemma fatale a inizio gemma del sud prendiamo quota va bene io intanto mi avvicino max mentre loro sono amaldo noi abbiamo preso quota ci siamo ma non lontano ma io vedo non ti preoccupare bomber lo girai un minuto devi anche avvicinarti in fretta devi volar lì sopra si prima vedere te bomber dai esatto cammini piano piano esatto cercando comunque di essere un po' nascosto proprio non finchè non sono abbastanza vicino senti un po' un tremore mentre ti avvicini ok lo scricchiolare del legno ok mi sta venendo da vomitare mi avvicino ancora finchè non vedo la casa che inizia a venirmi contro non lo so non lo so quello lo deve dire ma non lo so se starà nel senso la casa invece effettivamente si volta e inizia a muoversi verso di te ok quanto è distante cioè ho il tempo di castare prima che mi attacchi posso fare una cosa di reazione puoi fare puoi castare prima che ti attacchi ok ecco una sola cosa puoi fare si si quella è l'idea ok mezza sfera appena sta per attaccarmi appena ho visto la sfera sono impicchiato sulla casa per scaricare i due ragazzi dall'alto ovviamente odio volare li deposito se la cosa va male era i corri mi raccomando la tengo io possiamo scendere tranquilli non facciamo nessun tiro aspetta aspetta che qua sta sta preparando mi sembrava troppo bello no 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 sta tirando 20 dadi aspetta no no 40 vabbè a parte ora tiriamo l'iniziativa per sicurezza però stavo guardando stavo leggendo meglio Outlook e ho letto una cosa ho fatto troppo ridere e che lo so lo sbalzerai a santa merda ma come iniziativa no perché l'idea non è una sfera che mi sono creato intorno è una mezza sfera mi pare le mezze sfere eh mi pare di sì eh sì c'è scritto ah hemisferical piece of clear crystal piece of shit no no quella no non è vero quello è il componente la sphere dov'è che è scritto mi pare che la ah che no allora no 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 allora è una sfera ti racchiude proprio ti ritroveremo a Krax vabbè rip beh ma se è immortale lo vediamo volare però tecnicamente scusa se la sfera è immune non dovrebbe subire danni cioè quindi non subisce neanche danni da colpo e chi può dirlo che senso no bene la forza la cosa non subisce danni esatto però non è che si subisce un culo forse la forza cinetica la prende non lo so aspetta ma può essere spostata la sfera può essere spostata si la sfera in moon all damage and the creature in the inside can be damaged by attack or effect originate from the outside ok però dice la sfera può essere eh alzata o mossa da altre creature è senza peso ok vabbè comunque ok che sei qua la tua sfera ok esatto andrà malissimo no dai che sicuramente precision ha deciso che assomiglia alla palletta fu esposta allora fa tirate l'iniziativa guarda come vengo spedito ma va fanculo non ci posso credere 4 1 e 2 ho fatto no vabbè cioè ma io non questo ma dalla scorsa puntata ho fatto qualcosa 8 tiri di critico fallimento vabbè meglio scusa mi attacca prima la casa mi attacca a me io non ci posso con vantaggio con vantaggio me l'ha messo il vantaggio no te l'ha tirato una sola volta o mi sbaglio non mi ha visto l'altro tira infatti anche qui non solo tiro no è 1 non riesco a capire la formula mi sa che sono 2 dadi da 20 che ha tirato però non riesco a capire 1 più 2 iniziativa no non è 2 dadi da 20 sono scemo c'ha pure meno 2 lei pure meno 2 non riesco a capire la formula per me ha tirato con vantaggio io ce l'ho settato ma comunque va benissimo perché inizio prima io la casa mi attacca e voi avete tutte le azioni dopo iniziare dopo della casa non ti vedo nel turn order aspetta a me? come no ma mi son cliccato sicuro sicuro mi son cliccato mi son cliccato più volte comunque andi ha fatto una formula strana per il tuo roll non capisco 1 di 20,1 di 20 secondo me perché tira 2 di 20 guarda ancora critico non è possibile c'è qualcosa che non va ma dai non è possibile ma scusa ma hai fatto 12 col fallimento critico che senso ha prima hai fatto 3 eh sono tira 2 di 20 4 eh ma com'è possibile che 12 fallimento critico eh appunto hai fatto un 1 più 10 più 2 prima perché ha fatto 4 eh esatto cioè e fallimento critico anche il 4 eh non ha senso non ha senso c'è qualcosa che non va secondo me perché hai fatto il primo tiro è un 1 il secondo tiro è un 10 e quindi ti ha fatto una cosa del genere no perché lui prende quello nella parentesi vedi ha preso 10 più 2 se ho fatto un tiro 1 e un tiro 10 è 10 che devi prendere cioè provatelo ancora per curiosità secondo me più 2 più 2 nella mia iniziativa ecco infatti perché lui dice hai fatto un 1 un 10 quindi io ti prendo il 10 più il 2 no secondo me lui tira 2 di 20 e prende quello più alto dei due esatto esatto infatti ah ok e non l'hai spiegata così cioè l'hai spiegata un po' diversa e quindi il primo fatto no secondo me se c'è un critico te lo visualizza come critico comunque se tra i due tiri c'è un critico te lo visualizza il rosso esatto esatto ah può essere sì può essere comunque signori in tutti questi tiri un 1 un 2 un altro 1 e un 10 eh te li sei giocati tu ah ecco eh porco di un eh comunque abbiamo capito qual è quello giusto eh 4 4 perché invece di farteli vedere due separati lui dice ok hai fatto un 1 infatti la forma in teoria dovrebbe essere quella perché è settato di vantaggio però mi girano i coglioni perché tra l'ultima sessione e questa siamo a quanti adesso un po' 11 erano 8 l'ultima volta sono 11 adesso oh che 8 eh madonna è figa ho perso la lancia due volte ho fatto critico negativo sull'iniziativa minchia ne ho fatti tutta la volta allora la casa ti dà un colpazzo ok anche se non senti dolore vedi la scossa e noti che ti stai allontanando rotolando leggermente verso il l'albero ok la casa quindi cosa fa questo prova a grapplarti in chi ne ha quasi stanza non puoi fare niente ok e poi ti lancia contro questa non fa danno ovviamente perché non hai peso quindi però ti trovi praticamente qua ok mi piace comunque che è la casa più intelligente del mondo infatti come ho fatto a capire in due secondi tattica militare di livello boh vabbè con un tiro solo ha capito tutto permettimi sono un po' scettico tre attacchi non ci hanno fatto niente certo ma poi tocca ancora a lei questo è un problema in tutta questa storia in realtà ha fatto una cosa molto istintiva c'è visto una cosa che rotolava l'ha presa e l'ha lanciata contro un'altra cosa che stava andando addosso però se fosse stato intelligente non l'avrebbe fatto perché non non ha fatto danni ma lei non lo sa mi metto il ready per saltare sulla casa ok quindi quando siete a distanza ti butti ok quando sono ragionevolmente convinto di non mancarla ok identico ok hai un movimento intero e poi la tua azione assolutamente sì mi metto in questa mappa minuscola mi metto più lontano possibile ma considera che se sei più lontano facciamo conto che lo sei ok mi metto in range massimo possibile per castare dispel magic hai capito hai capito che non ci hai lasciato sulla casa noi siamo sopra noi siamo su di te ah pardon scusatemi ragazzi ho avuto un attimo di paura no perché noi abbiamo cominciato il turno che io ho detto sono attaccato alla casa per quello non capivo ho avuto un attimo di palpitazione pensavo infatti io mi immaginavo che entrambi andaste noi siamo siamo i ready per saltare sulla casa va bene allora tu passa lentamente e radente passo radente e anche lentamente faccio un tiro acrobatico tutte e due allora ora che state per scendere ho 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 con doppio carpiato te lo faccio un po' meno legittimo vabbè comunque riuscite a scendere tu Dario entri proprio dentro la casa al volo prendi bene il tempo riesci a praticamente a passare dalla porta e sei sedenti poi riesci a scendere ma caschi caschi all'entrata sei un po' fuori però sei sei sopra sei nella zona comunque rialzata della casa ma sono appeso sono in piedi sono attaccato all'entrata cioè ho presente come l'entrata è tipo un pianerotto che va nel vuoto fai conto che sei come se tu fossi prono nel senso che sei fuori e ti devi riprendere un attimo durante il tuo turno e entrare la porta è aperta comunque vero? si sono passato se ho capito bene c'è proprio un'entrata modello si si è una casa quindi siete una porta e tu sei qua in fondo l'amo a che distanza è più possibile? la distanza per il spell magic 120 piedi puoi spostare insomma neanche in tantissimo in realtà ma si vabbè qua qui ok huge e torno in forma baobao in forma baobao the best form e scaglio di spell magic sul costrutto dai per favore fermati per un momento anche solo un turno non mi ha mai funzionato quanto quant'hai di cd di classe di di fastidio? ma 10 che lo spell dice in lingua classe di fastidio in lingua che possa capire se me lo spieghi te lo dico vai sotto spell c'è spell save dc dc 10 più the spell level ok la spell livello 3 quindi 13 è quello che mi hai chiesto è questo questa è la risposta ok ma ti chiedi il livello non hai lanciato? il livello 3 è quello che ho che è quello massimo che puoi fare no potrei lanciarlo di livello 4 il livello 4 dice che aspetta ah però lo ferma automaticamente però se è soltanto lo spell è livello uguale o minore ok ma questo è per te che devi tirare se no non mi torna what? tipo vuol dire che quindi è più facile di spellare quelle livello 18 cioè di livello 8 che diventa il cdc a 18 non ho capito mi sembra un scemo no cioè deve essere quando lo fai te che devi che se no ti guardi allora se lo spell è di terzo livello livello inferiore ha successo parisce per quelle superiori devi fare il dc devi fare tu il dc ah io for each spell make an ability check using your spellcasting ability esatto tu devi usare la tua spellcasting ability per fare un dc ma in questo caso no comunque in questo caso no io ho bisogno di sapere la tua il tuo spell save non quella della non di spell ah spell 16 eccolo qua potevi dirmelo dove si trovava 16 te l'ho anche detto ce l'ho detto è che non c'è capito nel barasso perchè la dc spell ti serve quindi c'è la spellcasting ability eh ma perchè penso che è la casa che lo deve tirare è la casa lo deve tirare esatto questa è la caratteristica della casa deve fare più probabilmente 16 o più ah di costituzione e vabbè ci avrà più 10 con l'unconscience l'idea l'idea è buona poi il risultato è come i miei tiri vediamo che la casa la casa faccia è come i tuoi tiri 25 manda dai ciao beh posso provarci al prossimo turno vabbè c'è più 9 ma quando cazzo mai farà più o meno di 16 beh ha fatto 11 con l'altro tiro si vabbè e deve fare da da 1 a 5 deve fare è comunque un 25% e se il prossimo lo provassi di livello superiore ha un qualche differenza ma se non ho capito bene non cambia niente non cambia niente è vero no non cambia niente ok speriamo non ti arrivi una trambata più che altro adesso penso sei nella palletta io mi avvicino tipo rotolando stile criceto vado verso la casa per attirare l'attenzione urla anche qualcosa wum 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 le tue formule strane ma sto dentro la palla non si sente ah non si sente no non pensi si tipo sai come con una palla che gli vado addosso contro una zampina per dargli fastidio ok mi avvicini così la guerra mi lancia dall'altra parte della mappa però e passo il turno passi il turno ti prova ti dà una un colpo per cercare di mandarti via ti sposta qua rotoli via vai oh 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 poi prende una pietra e la lancia verso il druido che muore si ma per cortesia ha preso 26 danni ma che cazzo vuol dire no solo non hai fatto il critico il critico era l'altro ma è una pietra ma se te la lancia bene è una bomba nucleare no una pietra quella è un masso gigante che cazzo palla di fuoco fa meno danni ma cos'è quando lancio io fa quattro danni una pietra devi immaginarti che è una casa gigante che prende una pietra sì vabbè ma io continuo a dire che il master la trova però potevamo 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 lasciare stare sta casa di merda eh con il senno di porno vabbè ormai siamo qua 20 danni vabbè no 26 26 eh mi one shottava col critico no non è vero però quasi no non è possibile no c'ho 68 punti per rita però comunque mi faceva un sacco male eh poi la casa fa un po' come è presente i cani quando sono pieni d'acqua e iniziano a scuotersi sente che c'è qualcosa addosso e inizia guarda 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 ma se non avessi fallito l'acrobatica così micchia atletica rip ok andy fammi un tiro di acrobatica si stronzo però eh di verità che sei stronzo beh è buono ma è buono però stai per cascare perché sei fuori ma riesci a tenerti e quindi sei sei ancora ancora al piano sei ancora al piano giusto la max è sparito mi fa molta paura è tornato sono tornato? è tornato ah sono tornato invece voi vi danno tutti fermi e tristi per essere stato effetto ti sta punendo perché ci vuoi male tu ti stai e invece vai a sbattere contro una delle dei muri cioè interni e cadi prono però a parte quello non hai non hai non hai grandi problemi ok sei dentro eh io mi avvicino tra il buco e la porta per dare una mano e mi metto in help per dare una no non tra il buco e la porta no ma che cazzo mettiti in un punto dove se ti sbatte ti sbatte contro un muro non c'è la porta dietro che mori fuori ma no l'idea è darti una mano a entrare in modo che poi chiudi la porta vabbè ma te te lo tocca a me che conviene a stare sdraiato vicino al buco hai ragione hai ragione mi sdrai vicino al buco e mi metto in help per aiutare jaga qualunque sia la prossima sua azione prima volta che uso help in 39 puntate vedi con soddisfazione e passo il turno questa è la azione che faccio ok quindi sono in help lo aiuto qualunque sia la sua prossima azione ora non vedo la tua espressione quindi potrai mentirmi proprio spudoratamente aspetta sta tornando è tornata l'espressione adesso non puoi più fuggire no ma c'è una porta dove si esce che si può chiudere una porta si può chiudere sì di legno eh non è niente di che perché perché il manuale dice e qui poi sarò a tua discrezione che se faccio un'azione di movimento e faccio una cosa molto semplice come chiudere la porta può non contare come azione beh l'abbiamo fatto nelle miniere prodotte dei fan dall'altro giorno sì però magari no 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 questo è un portone della madonna cioè te devi te lo devi chiudere domani quindi fan culo no 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 se la puoi chiuderlo ok allora attaccato come una scimmia a questo cazzo di pavimento che sta lanciando ray sente soltanto i cristi che sta lanciando in orchestra non capisce niente anzi in gigante che è più più bello non capisce niente ma sa che sono cose brutte quelle che sto dicendo quindi mi incazzo come una iena rage prima di tutto mi metto non in piedi ma almeno stabile per riuscire a chiudere la porta e avvicinarmi al buco riesco a farlo in un movimento mi sembrava abbastanza piccolo l'interno quindi ok e con l'aiuto di ray sperando che zamo con la sua sopravvivenza abbia fatto un retino impeccabile infilo la lancia nel buco cercando di pescare dalla pa cercando di pescare la la gemma e di tirarla fuori ok il tutto mentre ray mi dà una mano che so tenendomi fermo non so esattamente come funziona dipende dal tiro anche una mano spostare la lancia se vuoi tu stai cercando di prendere l'idea è sollevare arretare la lancia e la la pietra con il retino e tirare fuori fammi una prova di forza atletica volevo sentire con vantaggio con vantaggio perché sono in sono in rage prima di tutto e poi vabbè ho anche il tuo aiuto quindi poteva andare meglio lo stesso vabbè hai fatto un 20 e un 19 cazzo ma con un più 8 però c'è comunque una media bassa senti che l'hai presa non l'hai ancora tirata fuori però l'hai agganciata se hai giusto un secondino di più forse la riesci a tirare fuori ok poi tocca a te tocca a Zashin perché non è Zashin che non si vede qua però ah tocca a me ah giusto era questo alcoato beh io riprovo a fare dispel magic dai Max fai un tiro di merda per una volta ma c'ha più 9 di costituzione ma fa 1 ascolta Dario con gli scuole avevo più 6 per colpirvi vi ho colpito quante volte eh lo so capito però più 9 deve fare 16 troia tu una troia ma figa ha fatto 21 tu una troia più 5 eh ma neanche di tanto se ci pensi eh eh insomma ok espo va bene continua andare a rompergli coglioni oddio è una cosa che non si può vedere il flipperino faccio toing toing ok rei prega che riusciamo a restare qui non vorrei darti brutte notizie ma secondo il numero dei turni è il tuo ultimo giro nella boccia è ok abbiamo fatto due turni a testa mentre siete lì vedete che la la radice sfonda la porta e vi passa a un millimetro dalla faccia tu ti ovviamente rei no perché steso a tenerti ah sì in realtà pensavo che gli è steso anch'io giù vicino al buco così però vabbè non sento va bene cioè calcola che sono in ginocchio però sì va bene dai non tenermi in ansia così per favore max sto vedendo se riesco a mettergli lo svantaggio vabbè lo faccio a mano se lo prende se vuole ok ok troppi troppi basta ok e meno male e con svantaggio sì e prova dentro a colpire andando a destra e sinistra ovviamente non vi prende perché siete bassi sentite però la radice che sbatte contro le mura e poi di nuovo prova a scuotere questo punto Andy fammi un tiro di acrobatica con vantaggio perché c'è il re che ti sta tenendo re tienimi tienimi ok riesci a tenerti più o meno ti stasci levolando un piede sei pesante comunque sono superiority dice per tenerla cosa devo fare no l'hai tenuto ok l'aria tocca a te prego cost mentre mi rimetto ancora in ready per dargli una mano afferro anche la lancia per dargli una mano tirarlo su perché non so se ti serve fare il ready cioè l'help action in teoria è già un ready perché allora metto help va bene uguale una delle due non so sinceramente non ci ho mai pensato funziona come un ready immagino di sì perché l'azione arriva dopo comunque mi presto ad aiutarlo nella sua prossima azione e prego anche cost che fino adesso ha funzionato chi lo sa cosa può succedere venga se guardo dentro la gemma è dentro nel retino cioè la vedo perché la vedo dentro non la vedi proprio perché è bassa però senti che c'è qualcosa incastrato nel retino proprio perché ha incastrato un topo che era lì dentro che era lì dentro per casa una bella pantegana gigante tiro tiro sulla lancia cercando Alizio piano per vedere se esce fuori se vedo che non sento che non esce tiro ok fammi un tiro di atletica con vantaggio sì anche se non me lo dice con vantaggio in realtà io c'erò già il vantaggio tirano fuori niente sotto il 10 tutto puttangera sì senti senti che fa cioè è un po' incastrato è come se fosse legato al legno come se ci fosse una radice che lo tiene però senti che si sta sfilacciando manca veramente poco per tirarlo fuori per staccarlo almeno mano a tirare dai sto tirando va bene provo la mia ultima possibilità la mia ultima possibilità tento che ti andrà bene questa volta di poco di uno di uno mi pare che ha sedici ne ha sedici niente va bene visto che la palla mi è finita è il momento del T-Oberon no in teoria ce l'hai ancora questo turno poi finisce no no ma è il momento del T-Oberon ah vabbè mi trasformo in T-Oberon però non vicino alla casa perché se no gli do un colpo lo sbalzo via tutti ok ciu ciu mother fucker esatto metto tipo qua e con il mio attacco tieni ferma le radici con la coda no 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 l'idea è che con il bite mi rosicchio la radice che sta vi sta attaccando dentro ah ok tipo la spezzo la taglio via in modo che non possa andare a romperli i coglioni ma non ho capito è da fuori arriva dentro la radice o pensavo si è da no no pensavo si generasse all'interno della casa ha sfondato ha sfondato la porta quindi è entrata dall'esterno ma visto che c'è passata via io pensavo che arrivasse dall'interno eh no perché ha sfondato la porta quindi è arrivato dall'esterno è arrivato dall'esterno è come se avesse smalacciato dentro a cercarli così si 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 adesso è più chiaro no avevo immaginato che si crassero all'interno le radici no no vi pigliava da da fuori ok mi prendi con i denti una delle radici e le attiri per tirargliela fuori vediamo se gliela grappli gliela grappli riesci a prenderla e riesci a tirargliela fuori ok questo è il sedice hai visto qua il sedice la fa esattamente con la coda se me lo permetti infilo la coda nella casa ok no sono andate via tutte le webcam eh sì infatti non ti vediamo più cioè l'idea è che infilo dentro la casa per evitare che entri qualcosa e per darle tipo un appiglio o comunque qualcosa che non se la coda ci arriva non so se è lunga la sufficienza se no la piglia per loro è tipo che la infilo dentro in modo no da quello che ho capito è per evitare che ci si infili un'altra radice al posto di quella che apre ok va bene sì sì e noi non possiamo volare fuori di riflesso allora la radice che hai preso ovviamente l'hai fermata e e ti inizia a menare con le altre ho 7 ti prendo non funziona non mi carica neanche più adesso sì sì perché ho 13 d'armatura un tiro di costituzione 12 tiro salvezza 12 ti vede ti vede no ho fatto 10 ok cazzo con quello del t-rex quanto ha il t-rex 10 no costituzione 4 4 ok ok cos'è che ha il t-rex ah è vero che concentration eh sì ti dà una fiammata ma non ti prende no non ci posso credere ha fatto 13 madonna che paura probabilmente si immaginava che tu fossi ancora un t-rex enorme e quindi ti manca perché ha cambiato all'ultimo distanza ha fatto la crepa la vicina dove sei te ok gli rimane un attacco no anzi due si di squadra no no si no no rimangono due attacchi si squadra di nuovo per cercare di tirar fuori la gente da dentro tiro di di Andy sempre di acrobatics ok no però è 16 vantaggio vantaggio ti scusate ah ok si per quello giusto scusa ok ti tiene bello stretto non scivoli però se l'hai sentita è una bella è tutta una bella botta ok ok Ray vuoi che ti aiuto a sollevarla no tienimi allora continua a tenerla tienimi e prego Kossut ok tiro di atletica devi venire fuori oh no prego tiri tiri con tutta la forza e senti a un certo punto uno stack e praticamente se non ci fosse Ray a tenerti castcheresti col culo a terra perché per la forza che tu stesso hai impresso vedi le braccia che si alzano la la gemma verde rubino che si alza in aria e appena senti lo stock oltre a veder quello senti la casa che boom si spegne shut down si spegne posso provare a prendere a volo la gemma provaci mi ricade nel buco e si riattiva la casa no canestro sarebbe bellissimo acrobazia si siamo ancora in turn order cosa fai ah scuola finito pensavo fosse finito il turn order pensavo fosse il re in effetti ha detto finito quindi sto acrobatico l'ho fatto ho fatto 17 ah non l'ho visto ok la riesci a prendere uff ti stendi e lo prendi lo prendi al volo ce l'avete fatta se ci si distruggeva tiravo due madonne che va bene l'osservo quanto è grande indicativamente eeeh così va bene la osservo è verde giusto verde è bello acceso si 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 è proprio luminosa beh deve essere la gemma del mago del vino o qualcosa del genere assolutamente non ti sto ascoltando io sono sdraiato sul pavimento della casa inerte ah max una cosa se non ricordo male fuori dalla casa c'erano le gabbie con i corvi ci sono ancora si si posso liberarli ma va li libero devi aprire no devi usare devi fare un tiro di state of hand no si aspetta con quei corvi lockpick ah ce li ho si aspetta con quei corvi i corvi sono amici nostri di solito se racconto appunto fammici parlare vabbè ma se sono amici nostri non scappano fammeli liberare prima ma se posso chiedere una cosina mi togli la musica del combattimento che mi sto mettendo ansia dalle palpitazioni io non la sento io non la sento adesso adesso penso che sia finito beh vuoi prima parlarci fammeli liberare nel senso tanto sono amici nostri di sicuro assili ok ok con un po' di difficoltà perché effettivamente sono orugginita riesce a liberare i corvi che aprono un po' le ali tiracchiano fanno un volacchiano un'acqua intorno alla casa e poi si riposano davanti a voi su delle radici vedi sono qua ci puoi liberamente parlare ma Max libero anche gli altri nel frattempo faccio il tiro ancora? si torrci siete liberi adesso si grazie grazie era da tanto tempo che eravamo bloccati qua ci stavamo onestamente annoiando molto credo che avesse proprio piacere a tenerci dentro e sentirci lamentare adesso non farà più male a nessuno andate a spargere la notizia e se potete andate anche dal mago dei vigneti del mago del vino e annunciategli che presto arriveremo con buone notizie si 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 avete preso avete preso l'oggetto l'oggetto quello importante si 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 glielo diciamo subito bene bene e grazie si volevamo avvertirti si no dico di quella cosa esplosiva boom boom dentro ma hai fatto troppo presto sono stato avventato ok ciao ciao e voliamo via max guardo se trovo qualcosa di particolare nella casa ancora magari che non è sfuggito alla prima ispezione di di zashink al contrario ok cosa cerchi di preciso è vero perchè sei il cotter no lo scrigno forse non avevi guardato no è quello che gli ha dato la scossa vado a fare un refill di acqua ma dopo la scossa però sono arrivate le mani quindi non ha non so se ha guardato dentro non ha guardato dentro no non ha guardato dentro il cesto dopo che ho preso la scossa e allora apro ok lo vedo già aperto roba del genere si si è leggermente dischiuso e annerito dal schiuso beh c'è un po' di roba dentro sono tipo all'incirca su un migliaio di monete d'oro un po' di gemme all'incirca dal valore nominale a occhi ti sembra sui 300 400 monete d'oro c'è un olio dentro una una fiala una fialetta due pergamene in modo che tu non trovi particolarmente interessante ci sono dei dei proiettili da dal lancio piccini bel lucidi una sorta di flauto ma è strano perché ha due ha due ha due sfiati ok molto particolare è una una sorta di pietra intagliata con delle agate al posto degli occhi con un'agata al posto di un occhio che sembra particolarmente ben fatta e questo gatto con gli occhi con un occhio d'agata e l'altro normale di pietra faccio un verso agli altri di venire su io sono già lì di fai quanto ha preso di tu mille monete d'oro che bottino è più di roba quella vecchia maledetta di che materiale è il flauto ossa perché io ho un flotto di electron però non mi ricordo se c'era qualsiasi no non penso ci sia nessuna correlazione quindi cosa c'è dentro il cesto un sacco d'oro oberon un sacco d'oro di gemme gli porgo le pergamene istantaneamente queste che sicuramente ti interessano buono è pensato poi qualcosa di magico qualcosa da identificare c'è questo gatto con con gli occhi di giada oh lolo 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 beh ok io mi prendo 300 monete d'oro ok io mi prendo 300 monete d'oro è un oggetto meraviglioso è questo qua eccomi che succede amici siamo ricchi siamo ricchi una marea di roba quando praticamente hai addosso questa questa pietra hai un più uno gli ability check e tutti ti risalvezzi che meraviglia io in realtà ho l'anello quindi non so se qualcuno di voi è giusto che qualcuno di voi abbia questo oggetto beh ma non dispiacerebbe beh lo lancio quasi distrattamente a a zashin beh vedete se oberon chi li voleva usare beh bisogna beh più non gli ability check e se vintano magari chi è più battaglia sta davanti a prendere i colpi dovrebbe secondo me averlo allora allora va bene a me va bene o a Dario no Dario sta più dietro di solito no tienilo tienilo se non lo trascino in mezzo alle cose lo tengo io per quando mi trasformo al combatto ricordatene ma puoi settarli lo sai che vediamo c'è un modo per settare tutto quanto allora innanzitutto dove lo devo equipaggiare negli item allora te lo dico perché li ho tutti guarda li ho presi apposta allora mod values item allora saving ok devi così guarda max tu devi scrivere questa cosa guarda dentro in questo in questo link ci sono tutte le cose che devi scrivere per avere poi puoi mettere che so saving throw uno sotto i mod dell'oggetto e lui te li aggiunge automaticamente a tutto quello che fai dioba quindi devo fare un oggetto random e poi infilare a ficcare sta roba quando lui crea l'oggetto poi nei mod puoi mettere saving throws più uno e cos'è che fa saving throw e ability check e qui quindi merda però per gli skill mi sa che non c'è un ability check generale mi riconosce l'oggetto devo scrivere una cosa io come per dire che ci sono di provare a vedere se per qualche motivo assurdo te lo prende ma io non credo però per gli skill non penso che ci sia un cosa generale guardo al volo proviamo proviamo good luck stone of good luck se faccio così te ne fotte come si dice no proprio non gliene frega niente poi me la segno ah ecco guarda qualcuno ci ha pensato proprio per la stone of good luck la tua vediamo un po' enable the setting for a global skill modifier and set the value for the body fire ok allora se tu stiamo vai sotto la rotellina della tua della tua scheda c'è global saving through modifier puoi mettere uno ah si esattamente effettivamente da qua funziona meglio show prima li devo far vedere no no vai nella rotellina dove vai per andare anche nel passaggio di livello colonna centrale il secondo il secondo quadrato l'ultima è global saving come fire metto uno lì metti uno e poi jack of all trades non lo so per gli altri invece per i skill check mi sa che devi mettere tu uno a tutto quelli sotto tutti quelli sotto quelli sotto tutta la acrobatics animal handling archa next exception bla 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 ah lo stai già facendo perché non so se c'è aspetta magari c'è skill option no no jack of all trades in realtà è quello del bardo che ha expertise su tutto praticamente quello lì apposta anche sul passivo e magari a destra c'è anche show global save body fire field così almeno ce l'hai dentro te lo segnalo ok perfetto e non devo premere save da nessuna parte no 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 te lo sarò da automatico ok baby eh che roba stanna che bravo che sono sai che abbiamo trovato ancora questo poi il flauto flauto dosso allora un flauto dosso mille monete d'oro delle pietre dal valore complessivo di duecento quattrocento quattro eh quattrocento ok eh un flauto dosso what the fuck cosa sono anche questo è un oggetto meraviglioso questo stra serve a me must be proficient with wind wind instrument si devi saper suonare sicuramente a fiat beh ci sta si devi saper suonare mi sa che io ho soltanto il corno quindi io ho il il corno quindi no non so se vale perché pipes mi pare che è una wow wind instruments tutti gli strumenti a fiat se li sai se li sai soffiare su sti cose suonnicchiare oh non che mi serva però io ce l'ho nel caso ho il corno quindi eh no io non son buono ma dov'è che lo vedi se è buona questa roba è sotto i tool i tool i proficiency in strumenti musicali a fiat no nessun tipo di proficiency quindi sono bello che ha posto per istimparare nel tempo senza beh si scusa io suonavo il infatti tieni questo è roba tua Oberon sei tu il musicista improvvisatore vedo che finalmente qualcuno ha riconosciuto ma secondo me potremmo darlo all'unico che sa suonare uno strumento a fiato però vedete voi e chi è? Andy? per il corno eh allora si allora si vai 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 Jag prendilo tu che sei l'unico che sa soffiare sicuri? beh sì non che ci voglia noi non sappiamo soffiare non sapete soffiare ma io ho dei bei polmoni e per quello so soffiare ho dei polmoni molto potenti e allora bene dividetevi l'oro io ho già preso 300 monete ci sono anche due pergamene e una fialetta le pregamene le ho passate le pregamene le ho già passate a Espo una fialetta misteriosa e dei proiettili uh proiettili? proiettili di cosa? proiettili da fionda beh li prendo però troviamo una fialetta misteriosa magari sarebbe il caso chiedere all'alchimista sì sì quanti proiettili? prendilo a tuo Oberon un 10 10 come li chiamo? proiettili proiettili da fionda fionda misterioso pdf misterioso quanti sono grandi le pipes of haunting giusto per capire? l'immagine non capisco così perché alla fine è giusto per capire se è una cosa che posso eventualmente legarmi anche al collo per avere davanti ma penso alla cintura più che altro forse e allora me lo leggo al fianco che fa poi molto tribale bello mi piace mentre invece Max le due parcamene cosa sono? così almeno le controlle sono revify e mask your wounds ok è brutta puoi controllarmi anche i proietti della fionda misteriosi che si chiamano misteriosi c'ho il dubbio va bene rifaccio wallow 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 sono più uno ah molto bene proiettili per la fionda più uno più uno più uno vecchio poi devi fondare più uno devo trovare una fionda più uno no devo trovare una fionda punto che poi sia più uno no vuolololo basta il resto della casa è orribili condizioni non mi sembra di trovare nient'altro di utile vi siete intascati il denaro? quanto al fine abbiamo preso testo? ah no no io ne ho presi 300 gold quindi ne mancano 700 gold più le pietre le pietre erano 400 quindi vabbè mi prendo 300 gold anch'io quindi rimangono 400 e 400 vabbè tanto è uguale ma tieni tutto tu già che tanto giriamo insieme no ma lo sai uno si prende 400 gold e l'altro le pietre si vabbè ma non tieni tutto tu mi fido sei come la banca ma per dividere i pesi tieni 400 prendo le pietre sono pesante le pietre eh vabbè prendiamo 400 ok ho preso 400 gold minchia se pesano vabbè quanto pesano le gemme? cioè dove sono i gemme? segnati i soldi dai o no no beh no se sono gemme dobbiamo barattarle quindi eh le gemme non so quanto pesano non ho un'idea non tanto meno dei soldi sicuramente ok vabbè e allora me lo metto come uno un uno standard si anche perché ho della roba che peso parecchio eh comunque ho le trappole per cacciare che mi pesano 25 non mi dimentico sempre cos'è lo spellcasting ability modifier il peso totale segnato intende i chili e sono libri in teoria libri si che sarebbe equivalente in chili di eh non so io c'ho 98 fai te una libra e mezzo chilo ah ok sto portando 50 kg di roba eh anch'io più o meno catroia negativamente poi se il fatto che non ho mai usato le trappole in effetti potrei piazzare giù qualche trappola anche se lo so bene esattamente come funziona giusto per rompere i coglioni ma un po' meno di mezzo chilo 450 grammi ok possiamo riportare l'eroico teschio all'eroico luogo di eroica sepoltura dell'eroico Anglinvost certo bene bene eh tu hai ancora una trasformazione possibile Zashin perché trasportarlo potrebbe per lunghe distanze potrebbe essere un problema sì o posso usare polymorph però dura un'ora non facciamo tanto posso usarlo due volte e poi il resto lo trasciniamo uso uso la rabbia e lo trasciniamo il più possibile forse dura un'ora polymorph sì sì dura un'ora beh volando posso arrivarci lo tengo sulle zampe e volo voi mi raggiungete immagino che non pesi più di noi certo è di cose sì beh chiaro no il pan massimo va lui da solo e noi lo raggiungiamo a piedi ah chiaro chiaro no potrei penso portarvi anche in groppa e portare il teschio con le zampe adesso che abbiamo scoperto che abbiamo anche 50 kg di carico a testa questo non te lo so dire non so sono circa 150 kg ce lo deve dire il master vi ho fatto volare prima vi ho fatto volare prima cioè uguale noi non abbiamo calcolato ma se no porta tu il teschio non c'è problema guarda fuori il teschio ti raggiungiamo no no potete volare dai figurati arrivate fino a un certo punto ti trasformi sempre in un un qua 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 un qua qua un qua beluga ok e volo verso la furtiazza del drago nascente della luna questo significa che potete tagliare un bel pezzo di strada si togliamo tutto perchè andiamo via aerea bomber non abbiamo problemi di altre rotte aeree via aerea bomber nel senso che sei un bomber si un bomber non la vai impicchiata anzi se ci porti già sulla torre già che ci siamo con un bomber bombardiere dove li porti? atterriamo sul tetto come dove li porto? siamo arrivati? si eh atterriamo di fronte e poi entriamo dentro in serenità come normali esseri no portaci sul tetto così possiamo già rimettere il tetto ah si bravo bravo mi piace bravo bravo in cima alla torre atterriamo sul tetto della questione guaglio ma fra l'altro che c'è già il Quetzalcoatl che Quetzalcoatl is life l'avevamo dimenticato lì it's love l'avevamo dimenticato lì ancora io mi chiedo dove cacchio sono i cavalli di Luvash però non vedo più le webcam effettivamente dov'è che li abbiamo lasciati? no penso qua sotto sono a morte no siamo arrivati a cavallo qua sono qua sono morti ma che cosa? chi? i cavalli di Luvash sono stati mangiati no li avevamo lasciati qua sono abbastanza sicuro è passato Zammash e li ha mangiati atterrate sul eroici aggiungerei con leggerezza e leggiadria leggiadria sono anche gli applausi della gente non penso no certo gli applausi quando atterri io però ritorno druido prima prima che loro scendano dalla mia groppa così a sfregio così fanno un tonfo di un metro un metro due e in realtà qualcosina in più perché se ti dico quanto è alto va bene non lo faccio scendete e poi mi carri un pezzettetto cadono sotto di sei piani e ci restano manca solo team kill per questa roba qua sarebbe divertente poi ti vengo a prendere giù dove cazzo abiti però sono i best team kill comunque quelle non di dire niente sono cosa? i best team kill quello che succederà nel tempio gli dà una pack e lo spedisce in un buco nero in una sfera di disintegrazione che sta succedendo? sto cercando di sistemarvi la scena bravo è stata la prima PlayStation 5 con l'SD l'IO più figo del mondo ringraziamo infatti il nostro sponsor Sony puoi dirlo puoi dirlo vabbè io sono tornato un cristiano allora Jag della foresta ingollati la pozione di forza e portiamo su sto teschio perché se no ci ammazziamo ma no ci ammazziamo fidati vedrai proviamo però non sono confidente ok con una certa leggiadria fatica arrivate vi accorgete che è un bel problema farlo passare dalla porta ok forse ce la fate ma è un po' quella classica scena quando uno prova a portare dai mettila inclinalo inclinalo che così non passa inclinalo intanto posso aprire la porta io vado dentro tu vai da dentro si vai vai passate qua vai una cosa veloce max il volo che abbiamo fatto può contare come short rest si si ok allora usa arcane recovery sei troppo buono max io non l'avrei permesso è abbastanza short e boh devi tenerti occhio 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 la punta sulla destra lì che gratta alza 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 di più alza alza sto alzando sto alzando aspetta piano piano com'è di là no io non vedo qua ragazzi non vedo non vedo non vedo dove sto andando non lo vedo non va bene se ci vuola giù dai dai spingiamo dai che passa su se ci vuola giù no aspetta no ho cambiato idea leghiamolo prima qualcosa no se ci vuola giù guarda il max max è già pronto guarda vai in pezzi eh 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 lo ricopongo cazzo con lo stucco lo ristucco insieme ma non avete in modo di di riempicciorire sta roba potete trasformarmi in una bestia gigantesca non potete riempicciorare il problema è che posso allargare la porta ma volevo tenermi la modifica della pietra per il buco che c'è sopra ti ricordo che hai ragione senti gegga usa quella pietra quella pozza per aumentare la forza così te lo giostri come vuoi e dalla porta ci passa no poi sicuramente finiremo questo ma se prova con il rage a me non lo sprecava pozzo il cilomentresco è incazzato hai presente quando uno sta montando il mobile e poi si incazza e si radica un'anta perché non riesce a montare il mobile lo fa una roba del genere va affatto con la rabbia ti prego non può funzionare ma tanto se usano la posizione della forza è uguale magari non mi controllo lo prendo su così e lo rompo scusa ma no che lo rompi quando c'è il turn order perché la porta è un boss allora vai fammi un tiro di atletica 3 perché mi ha chiuso la scheda prima quando ho riavviato adesso esce no non insultare te lo tiri su e riesci a entrare con il teschione gigante bene bene il teschio che stappava in passare moodless perché adesso sono diventati tutti low resolution oh madonna hai visto non sono solo io il problema ma anch'io li vedo in rovi oh madonna perché sai quei giochi nuovi dove puoi ritornare alla grafica esatto metti la musica 8 bit adesso max ok ti aiuto a salire la scala va bene va bene non conviene regalarlo qualcosa hai ragione assicuriamolo lo cinghio ok con la corda 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 avanti bene bene buona così buona però dovresti andare tu dietro perché il peso ce l'ho alza 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 che gratta alza 100 kg maledetto teschio fortuna che gli voglio bene a questo angrenbolt tassi sei come i vecchi al cantiere che guarda io la muoio e rompe il cazzo occhio attenzione che adesso c'è il buco pronti oberon vai voi fermi qua poggiate un attimo prendete fiato poggiate qua che fiamma sì ma non sulla scala fammelo mettere sul piano mi sono stato apposta mi sono stato apposta e ricostruisci praticamente la parte mancante ok passo io vedo se è solido ok è solido forza dai vado vicino oberon un attimo oh non è che ce ne quando passiamo io l'ho ricostruita non ti fidi della mia magia no no è che e do un colpo alla dove ho ricostruito è di solido come una roccia l'armatura del toro è tentata 8 bit anche la voce sì ha fatto l'effetto 8 bit anche la voce va bene era così è cominciato ad essere stanchino sai sono stanchino sai quanto manca non vedo è ancora è ancora una rampa hop hop forza dai che ci siete dai che ci siete è ancora guardo la rampa è ancora una rampa dai che è l'ultima su come ancora una rampa su su cominci a vedere buio e qui qui siamo arrivati occhio che ci sono le ossa occhio che ci sono le ossa non ci ho ucciso la casa ci ucciderà la scala attenzione alle ossa ecco attenzione alle ossa non potete usare quella pozione maledetto ci ho fatto no siete arrivate lo slego lo tolgo dove lo posate allora lo mettiamo chiaramente nel buco dove c'erano le ossa intorno che hanno lasciato questo buco eroicamente rivolto verso l'esterno a osservare la landa desolata visto che hai detto che si vede tutto è nella posizione corretta dove è che non sappiamo qual è ma come si che lo sappiamo tutto adesso mica è ricostruito è ricostruito perfettamente il punto sappiamo dov'è non sappiamo com'è girato per quello di cosa si che lo sappiamo quindi dipende da com'è messa la colonna vertebrale come è messa appena lo posate con molta attenzione una luce argente luminosissima praticamente riempie riempie la stanza come se fosse la luce di un del signore il signore ah guarda che la luce di un che meraviglia ed illumina tutto cioè illumina proprio vedete illumina i nostri cuori anche risentite estremamente di buon umore prendono la mano di ciega e ricolmi abbraccio Zashin guardo in maniera rilassata Oberon ce l'abbiamo fatta mi metto un braccio intorno al collo hai visto mi bacio mi bacio mi bacio mi bacio mi bacio mi bacio madonna che scena crudica adesso lo spingo giù dalle scale no ma sono buono sono buono in questo momento non ti spingo giù dalle scale bene possiamo sentite proprio contenti e quasi protette e a proposito di protezione questa luce attenzione attenzione finché questa luce accesa illuminerà la notte di Barovia dalla vallata avete un più uno alla classe armatura e ai tiri salvezza e vai così è la madonna ma solo di notte no è sempre buio è giusto quindi questa luce c'è quindi vuol dire che la possono tirare giù eh e beh se sa ma adesso andiamo giù a dire gli altri oh per nessun cazzo posso manipolare la mia classe armatura già adesso e metterla a 15 che tocca invece per i tiri lo cambiamo non metto lo puoi fare anche lì e il tiro invece di dove era nella come ti abbiamo fatto vedere prima eh appunto e su dov'è che lo devo mettere su allora aspetta mi hai detto cos'è che hai detto cos'è che hai detto più uno la classe armatura e i tiri salvezza global 7th modifier quindi adesso c'è un 2 sul global 7th modifier stavo scendo 10 invece di 1 beh c'era una madre e poi custom ac metto 11 naturale e adesso tipo faccio tiro questo però aspetta non è questo non è un modificatore della classe armatura dove lo metto però vedi non me lo dà ma io ho cambiato armor class armor class metti uno in più su armor class è lì ma dove l'hai messo dentro nella armor class armor class no no cambio proprio vicino iniziativa sì appunto l'hai cambiato io invece l'avevo cambiato come custom ac ho messo 11 invece di 10 quella naturale ah vero va bene anche lì va bene però vedi ho messo ho messo più uno ho fatto il se vinto sull'intelligenza mi dà comunque non me lo dà più uno mi dà 17 più nove hai messo lo show show global save modify esatto devi mettere show global eh nella nella rotellina ah ok riprova che sono in bless scusa cos'è il bless che c'è c'è il bless addosso sei blessed ah no no perché vedi sul core vedi che c'ho il perché è un bless non so perché è un bless fra i global save modifi ah ma sono una roba altra diversa quella tipo perché c'è il bless quindi se invece nel global save modifier ti metto global skill magari però mi sa è strano con cui c'è una roba per modificare la la classe armatura aspetta che provo io ragazzi voglio provare a fare un tiro di wisdom vedere se ah ma aspetta sto vedendo che il global save modifier se guardate guardate nella scheda core sotto i vostri stat avete global save modifier uno di quattro bless sì non so guai da guidance ci sono tutti i black robe a casa e ma solo se hai attivo lo lo vedi solo se hai attivo show global save modifier field lo vedi solo se hai attivo quello appunto però non è è per quello ah è quello che ti mostra lui eh esatto cioè non devi mettere per forza lo show te lo fa vedere nella scheda e basta per il global save modifier vabbè scusa metto più un arresto invece che al global vediamo se è così no 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 rimetti più uno rimetti più uno global save modifier uno ma togli show global save modifier perché quello è per è per avere un pulsante extra per modificarlo ok però vedi anche se lo rifaccio come no vedi che è dieci ah no infatti wisdom adesso ho uno invece di zero aspetta ma io dovrei avere zero perché ho uno cioè uno è il probabilmente il wisdom a me va però eh ho cinque adesso di strength prima avevo quattro sì però non ha senso io ho meno uno ho nove di wisdom qui dovrei avere meno uno perché adesso ho uno dovrei avere zero io ho messo più uno aspetta proviamo a toglierlo beh a me va l'ho tolto e ho zero di wisdom eh ma se metti devi andare a più uno sì ma non ha senso perché io dovrei avere meno uno allora dove si andrà a zero perché per esempio sull'insight ho meno uno ma perché i site sono solo se vinto ah però perché sul wisdom invece vedi che wisdom ho meno uno eh non lo so dipende dalla scheda quindi se io metto lo basing dovresti avere zero fire uno dovresti avere zero di wisdom quindi non più meno uno provo a fare un tiro di wisdom in a wisdom mi dà ancora meno uno ah ma perché sui tiri tipo in site è andava uguale what damn it no magari riavviando tutto rifunzione io ho messo più uno domani lo ricontrollo vabbè dai ragazzi se si vai intanto andiamo avanti vai tanto in mezzanotte diciamo quindi non è che tiriamo avanti aspetta diamo un attimo velocissimi dal commander la chiudiamo lì se proprio proprio ma adesso non so bene che quanto avevo di cia porca troia ok quindi iniziate a a scendere mentre zanzare nella vita reale mi stanno uccidendo cacci loro però vi ripeto abbiamo rubato il teschio senza farci beccare non abbiamo combattuto nessuno facciamo schifo come prima no no beh ma lui era nel senso era contento se li avessimo riportato si ma ha detto che non siamo una minaccia per strada al momento se non ci avrebbe attaccato chiaro chiaro in realtà è giusto che io ho uno di wisdom sai perché max il ring of protection mi dice che mi dà più uno anche i saving throw si si è vero quindi è per quello che io ho più due in tutto è giusto quindi è giusto quella cosa lì solo che io ho più due perché ho anche quello dell'anello giusto vabbè andiamo dal commander ok scendete le scale devo prendere tipo di peso tutte con la vita e arrivate tipo qui dove ah qua ok siete? si mi sposto qua e vedo non vedo il commander però io qui vedo vedo qualcosa di enorme ma farò finta di non averlo visto ok nella stanza del trono vedete che c'è una figura in piedi con una mano posata sul sul trono e il capitano che ancora ah quello con cui si con la mano posata sul suo spadone è immobile allora ve ne siete accorti il revenant si volta molto un po triste un po malinconico ma si si me ne sono accorto perché hai la sensazione che sei rimasto da solo? beh i miei bagni d'arme hanno trovato la pace beh l'avete riportato la luce di Argivost e Argivost ha illuminato la strada per tornare nell'aldilà beh ve l'avevamo promesso ma quello che non mi spiego è perché tu non sei andato insieme a tutti gli altri da un'occhiata al trono perché la mia vendetta non è finita mi sa Rad allora sei qui per aiutarci? sono qui per fare ciò per cui esisto si ti unirai a noi quando sarà il momento si e comandante ha trovato la strada lui un po' di nuovo a guardarlo si bene beh direi che è andata come ci aspettavamo quindi bene non ti vedo particolarmente felice ma penso che tu lo sarai una volta compiuta la nostra vendetta o la tua vendetta si intende non è importante infatti che io sia felice è importante che i miei commilitoni abbiano finalmente trovato passo dopo così tanti anni beh te l'ho detto te l'avevamo promesso metto che i tuoi commilitoni ci sarebbero stati utili nel combattimento e potevano trovare la pace dopo però va bene insomma io invece sono molto felice per tutti loro esatto quando uno spirito trova la pace è giusto che vada almeno loro per la sua strada sono sereni adesso sì non posso che concordare con voi e poi vi ripeto gliel'avevamo promesso è una promessa l'ha mantenuta e poi voglio dire abbiamo fatto una buona azione no? eh ma siamo stati anche ricompensati guarda questa luce infatti secondo me a strada quella luce non piacerà tanto no secondo me non gli piacerà per niente e deve sapere che siamo perché è una luce di speranza è una luce per un nuovo inizio una nuova speranza avvicinarsi qua finché quella luce è accesa molto bene e mi vedrà bene da fare entrare uno dei suoi agenti nel caso Argin vostro sono certo che ora mi protegga protegga questo luogo e ci sono pochi che mi spaventano a questo momento molto bene io so esattamente sempre dove è strada sempre la direzione so dove si muove so cosa fa a parte della mia maledizione e adesso è un bel vantaggio da avere adesso è ancora nelle sembianze di Vassili con Irina questo non lo so io so soltanto dov'è ed è in là ah senti la direzione e la direzione dov'è che è a Baroghia è allo stesso posto da un po' e allora vedremo di fargli capire che la situazione sta andando con tutte le sue aspettative la porta lì è aperta vero? ok ma sbaglio o quello è lo spirito di Arginbost di Arginbost mi guardo può essere io lo sento qua lo sento ovunque chi vuole parlare? beh io vado andiamo che vado anche io andiamo a vedere Dio che maestosità tipo davanti a questo spirito piuttosto enorme di un di un drago colore argento imponente che figo e mi piacciono i draghi cosa devo fare? non è colpa mia ma glielo dice anche che figo sei un figo della madonna Arginbost e ora parte la musica di Dark Souls Arginbost era uno in ordine guardalo siamo seri si osserva e sospira vedete che esce dell'aria fredda dalle dalle narici ti ti ringrazio era un dovere non può essere ripagato finalmente i miei figli possono riposare beh gliel'avevamo promesso faccio un parabenchino io io devo stare qua devo assicurarmi che tutti i miei figli arrivino a casa qualche luogo in cui ho speso tante energie tante forze torni di nuovo a chi lo merita le persone brave buone di parodia non ho più troppo più le mie ali non ho più non ho più io soffio ma spero di poter fare quello che posso per donare un po' di speranza sono sicuro che la luce che illumina il buio di queste notti rinfranquerà i cuori della popolazione quanti dei tuoi figli sono ancora legati a questo posto non possono ancora proseguire no quasi tutti mi sto sentendo che pian piano stanno ritrovando alla strada solo il goffri è rimasto la sua vendetta è più profonda le sue emozioni troppo forti per andarsene troverà la pace una volta compiuta la sua vendetta immagino siamo qui per questo sono abbastanza sicuro di poterlo aiutare che potremmo aiutarlo anche in quello hai qualche consiglio da darci tu che hai vissuto hai combattuto contro strada soprattutto stiamo cercando un artefatto da un po' e non abbiamo una vaga idea di dove sia magari puoi darci qualche consiglio un'arma a quanto pare pare sia una spada sì un'arma beh forse ho presente penso si tratti di un'arma di luce sì la cercavano i miei cavalieri esattamente una cerca di quell'arma e i nostri alleati i popoli delle montagne verso Monte Gakis avevano assicurato che fosse saldamente nelle mani di una creatura al tempio d'ambra purtroppo non siamo mai riusciti ad arrivarci il tempio d'ambra e allora in compenso c'è qualcosa che forse potrebbe servirvi era uno strumento e i miei paladini utilizzavano ed era una delle poche cose che terrorizzava Rad siamo tutti orecchie è una è una statua giù fuori da dalla fortezza è stata l'entrata sì abbiamo l'abbiamo vista mettere anche un un fiato di ghiaccio quando siamo arrivati qualcuno di voi conosce il draconico lo conosco io ok attenzione allora si si guarda dall'alto andiamo freddo dalle narici bene allora la parola è luce in draconico si dirà qualcosa del genere comunque che non è in nanico che è diventato un esperto di nanico no ma che è luce sarebbe luce luce esatto luce in draconico alla statua alla statua fare il mio tesoro delle tue parole io andrei a vedere che cos'è o vogliamo tenere no andiamo veloce dai ah vuoi sapere allora ci congediamo gli faccio pure il salto militare prima di congedarci oltre ad aiutare Sir Goffrey io ho free con la sua vendetta c'è qualcos'altro che possiamo fare per te per me no l'avete già fatta sufficiente mi è rimasto un barlume di ricordi speranza questo è più che sufficiente non voglio chiedervi altro vi chiedo solo al massimo di non farvi tentare dalle facili soluzioni ah no noi siamo proprio bravi a creare soluzioni complicate non ti preoccupare e poi guarda guarda questo gruppo di stronzi ehi tranquillo non era in maniera amichevole questo gruppo qui io la farò vedere a quello lo spero spero davvero buon viaggio avventurieri grazie spero ci rivedremo presto a presto e scompare 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 lo sentite dietro l'acqua ha fatto scompare così dietro l'acqua e cioè lo vero sentite ancora cioè come se fosse ovunque lo percepiamo se era materializzato solo per parlare con noi quindi che dolce facca sulle spalle agli altri compagni ah vedi che quella sfacchinata che drago che drago curioso beh dal torno avevamo promesso di dargli pace mi sento rincuorato devo ammettere andiamo a vedere quella statua presto rendo conto che abbiamo rischiato di morire troppe volte non mi ricordo manco dove si scende Max portaci giù mi porto giù mi faccio direttamente andare davanti siamo fatto che scendete di corsa come delle ragazzine infoiate dai 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 di la parola di la parola come luce in draconico eh ma lo sai Arkansas Arkansas escanse burro escanse vado il bacino light c'è sembra il giapponese ah guarda che c'è il draconic translator eh ma come è vero c'è il draconic translator ok però translator michtne giusto eh dico michtne vabbè draconic translator che che meraviglia ma sul serio ma nella gente sta male vedi che si riapre di nuovo la bocca del del drago che ritira fuori questo questo soffio freddo in faccia note adesso che in bocca ha un talismano a forma di sole con una pietra preziosa al centro no non mi potete vedere peccato no ti vedo io però race the sun eh io l'ho fatto eh sì se lo vedete c'ha una certa similitudine a parte la faccia a buon tempone del sole che non c'è ma che bello che è cosa è successo la dissimola rank 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 non ho capito è caldo al tocco lo tiro fuori vabbè dalla bocca e lo mostro ai miei compagni ma non sappiamo cosa fa vabbè anche subito investighiamo come al solito arkana no cos'è detect identify ok non so sì ok è un oggetto leggendario prima di tutto minchia è un piccolo difettino che muori se lo prendi no che si lega soltanto a chi è riceppola di no fallimento però nel caso grava ce lo porteremo in giro cioè quindi non possiamo sapere cosa fa sì 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 allora ha dieci cariche e riprende un dado se è quattro cariche al giorno la sera e ha blocca vampiri come azione usare una carica presentare il simbolo sacro in faccia al al vampiro che se si muove prende fuoco minchia che top ma devi essere io devono fare un tiro salvezza su saggezza di c15 e se fallisco sono paralizzati per un minuto vabbè a a turn on dead classico che lo puoi usare usando tre cariche puoi usare un turn on dead gratuito in sostanza e hanno svantaggio sui tiri salvezza contro le ferie se vuol dire turn on dead scusami turn on dead è quello per farli scappare però può scappare o distruggere dipende dalla potenza e luce solare minchia usare cinque cariche presentando il simbolo e in trenta piedi appare una una luce solare per trenta piedi trenta piedi luce accesa e trenta piedi esterna e dura dieci minuti ma quello non è male eh no non è male no non è male no eh peccato che non lo può usare nessuno quindi non ho pregato costuto abbastanza va bene per adesso me lo metto al collo comunque va bene prossimo livello un tipo di paradino e via eh sì eh sì comunque ding prossimo livello fate il livello dinghiamo è vero avete distrutto la strega cattiva la sua casa maledetta avete liberato di nuovo liberato hard game post direi sì abbiamo livello stiamo facendo roba di altissimo livello signori non so se ci rendiamo conto ed è sempre la seconda opzione per scegliere il livello affermativo non quello con scritto livello 1 penso che sia abbastanza chiaro dopo questo lo farò con calma nei prossimi giorni eh che top farò il prossimo perché potrei potrei pensare veramente a un dip di multiclasse solo per usare quella roba lì sì oberon smizzare un po' di chierico certo dimmi una cosa dimmi una cosa al loro livello perfetto dimmi una cosa max non del premio perché non so cosa voglio dire io quindi a parte le lezioni della luce che vabbè mi sembra sia abbastanza ehm a dare insomma nel senso che lo puoi piazzare più o meno a una certa distanza quello del turn undead e quello del della paralisi devi essere in mini range cioè che devi presentaglielo in faccia è una roba che gli devi poggiare che devi essere lì no no gli devi far vedere quindi lo devi far vedere ok per le grandi scherzone con la mossa soltanto che per i vampiri dario e espo sono scomparsi da un po' con la webcam eh ma io vedo voi tre perché prima non ti vedevo neanche a te poi sei tornato max è sparita a un certo punto sei bloccato è rimasto fermo beh comunque puntatone oggi signori veramente abbiamo passato un'ora e 40 minuti a decidere come affrontare la casa ti è sembrata domanda l'avreste presa la pietra se non facevo quel retino se non è con la lancia e basta la tiravate fuori da lì non possiamo saperlo ci crepavate là dentro tre turni per tirarla fuori beh d'altro dire che riesco tu hai detto così ma sì dai con la lancia andiamo a risentirlo se vuoi parca miseria è stato per mezz'ora fare mi fate sempre trasformare poi fate i piani dai con io trasformato cioè tra l'altro che volevate pure buttare via la bomba così per buttare dentro la casa sarebbe stata una figata completamente inutile ricordiamo che è stato un bel botto ricordiamo ma magari non fa niente siamo di strada siamo di strada e andiamo a riportare la gemma anche a assolutamente tra l'altro io me lo sono segnato io l'inventario va bene siamo i saluti mi sa va bene bomberoni sono anche al solito di livello che top di livello ah sì stiamo per arrivare al livello 10 che è la soglia psicologica allora ringraziamo Abling che ci ha fatto compagnia Frenchy nuovo follow Spank Me Baby premio per il nome e tutti i bomberoni che ci hanno seguito anche stasera appuntamento a lunedì per le miniere perdute di Fandalver ore 21 e mercoledì per la maledizione di Straat episodio 40 signori prossimo sarà l'episodio 40 abbiamo raggiunto un totale di 60 episodi di roba sono 120 ore di campagna con la prossima puntata parliamo parliamo nel senso che la dobbiamo riassumere tutta è più longeva della single player di GTA o di Red Dead Redemption 2 dipende se calcoli tutti i multiplayer no no del single player single player bello va bene e buonanotte buonas noces ciao 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 ciao